Alleluia! 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 Buongiorno! Buongiorno! Dame si za pálku. Niko, ďauko, ďauko! Zdraví ťa! Dame si pálku na čiatku. Čo to je? Ech sa mám starboty! Dame si po to, inak boliči ich tu za chvíľočku. Troška čo sme roboty, takže... On pak napíše. On pak napíše, napíše, napíše. A začia si dáme takéto solo. Zase parkuris. Parkuris, parkuris. Domino, ho! Welcome, welcome! Vyplen ťa tu pekne. Zdravím ťa, dávam si rovne. Dál si trošku takú parkuriček. Dál mi UHC, dáme, dáme, neboj sa, dáme sa. Dálme si, dáme si, dáme si. Akorát... Troška si dáme parkuričku a potom možme iť na tými. Zase troška roz... Roz, 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 roz. Rozvoravka. Master! Taktiež, ahoj. Servaros, servaros lkaros. Jo, sa som zahadil. Servaros, tak by som tola. Servaros čistý. Lebo... plots... Dál som to úplne,했어 eheh,ümament som to odal. Ešte sa ja čiž zal streamovať som zavislen, nál. colore switchi, non ho bisogno di non c'è ah, ho bisogno, non ho bisogno di una colore switchi sinつimi, ma ho bisogno di lavorare allora non ho bisogno di lavorare . Quindi andiamo così. Chi non mi rimane? Chi non mi rimane? Chi non mi rimane? Chi non mi rimane? Potremmo no. L'abbiamo. non è un pochino è un pochino è un pochino no si puoi andare a fare un pochino il solito di nuovo � Locker, guarder, guarder, guarder. Vi allà, vi allà, guarder. Testo tutte le modi in una moda? Dove ero? Adesso è tutto. Che ho ficcio riuscito? Non preoccupare, non ho capito. Non ho capito, non ho scusato. Stoigkeit è più complicato, ci possiamourities cambiare. Gio, non ho capito, fuoo. Eeeeeee burra Musi mettere il cosco c'è Neeeeee, ciò robim, ciò robim, sono i due Cli dentro! SONI! SONI! Cli dentro!! Sono i qui dentro della vita Ghi tornerà, a hoda è hoda Sip! Super, super! Il bambino viene per un pick, oh no! Crede che ci 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 sono! Cuc! Sì, haato chelto! Sì nero che ci stanno! doncente viede lvl 1 perché c'è lvl 1, giusto? questo è vero... qua c'è la mia ragazza... Bia è vero! ASCIL Sofia! Ooooooooooooh Nazdrave, pripivamo si To semmo a skoci, to semmo a skoci cakra Toto mi caccom ide, parada, parada, parada Potremmo dire se c'è la sua musica, la sua sua musica, la sua musica, la sua musica. C'è una grande rada, ma poi non è più di più di me. Pacio, tu si è il 99, looo... Oh Pacio. Hehehe, Pacio. Ok, questo è il Paio! Hei, ho fatto un tipo di range. Sono lvl 9. Lvl 9 non è così difficile. Lvl 10 è molto difficile. Lvl 10 è qualcosa di molto difficile. Sì, 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 sì. Ehm, come sono io... ... ... ... ... ... ... ... ... ... oi col switch quindi non mi ne ne robilo tutto e il freestyle che sei stato l'arico che ci sono non si mangiare iniziamo il meglio sempre Non si fa solo, non si fa solo. Allora, non si fa sempre. Allora, tutti i giorni sono sempre a di nuovo. Martinko, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Paio, per cui sono un'amore. non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno checicholo si si questo il che ne così non ci Non può essere. Non può essere. Il nostro video è il tuo parto di Borreca, ha un bel superi, superi, molto molto. Sono molto molto. Ho, 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 ho. Puh, ho, 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 ho. Ah, no. Ah, no. Oh 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 se ti preoccupa, se ti preoccupa? ok, ma tornare il mio tempo? ho fatto il mio tempo... non ho fatto il mio tempo... non ho fatto tutto il mio tempo... non ho fatto bene, non ho fatto tutto Non c'è un'eserci, non c'è un'eserci. E' un'eserci che ho chiede a fare una scena. Bli macchi, non c'è un'eserci. Non c'è un'eserci, non c'è un'eserci. Non c'è un'eserci. Ma domani sono più stanno. Ma domani sono più stanno. Non lo soggio, non lo soggio. Skip. Non c'è un'eserci. E' qua il ruone e' qua il più... ...e' qua il buorà di*** ...e' qua il buorà di*** ...e' qua il buorà di*** ...e' qui mi fa vedere il suo problema ...e' qui qui si è messoicato ...e' qui si è messoicato ...e' qui si è messoicato Palpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapổ Ah non ho v Cordai arcovani. Polog 여자 wheelchair. Mi ricordo. Oh! 5 o 6 oltre a un cao 6 l'abbiamo raiam non sono ovviamente non sono tossicata però non ho sconto non ho sconto ne ho sconto è il t islander boa un'孩子 Ok, sono dove c'è chi. Ma siamo, dove c'è l'aiersi. Sono dove c'è chi. Quindi è l'aiersi. Ok, metterci il livello. Chari la 5. 5. Non lo so. 6. Ok, metterci il livello che ci sono. Non lo so. Non lo so. Non ciò che non c'è la cote. Non ciò che non c'è l'ho più. Ciò che sarà in un'altra parte. Non ciò che non c'è l'ho più. Non ciò che non c'è l'ho più. Ma che cosa è l'ho più negli. Spaniamo il record. Noi, non c'è l'ho più. Spaniamo, si scusiamo il record. Emi, aho! Ok, sì. Ok, sì, io è l'ho più. Il problema è che sono nella nobuca e non posso riuscire. Quando sono riusciti da normali, dopo i debuti. Buongiorno! Non lo so, non lo so. Ok, ok. Non lo so, non lo so. No, no bo! Non, non lo so. Non lo so. No, no, non, ahahah, ahahah, ahahah. Non helo, non si portò io non devo prendere. Poi, orate di la vita a bulla. Sì, sì, non è la lalle. Sì, sì, non ho vip casino, voglio Dio, non ho vipino. Buono qua qua il vero... No, ma va bene, tu non mi sei stare lìa. Quanto li ho vipido? Allora, non ho vipino. Bolova qua. 9 non c'è gleichen Tu mi risponde vuoi distinti ohtiani Ci sono molto nuenamenta Asi a levarai Ah擦m dati Mora sia più più lì Saje l'avello Sì Non c'è la lève ase per poter 30 centi di tre di sicuro Viene che? Ma ha fatto solito il 3. Certo? Viem ma ma è il Wilde Per prima Per prima Perché ci siamo essendo te il 3 level Ho preferito Ho chattato il 3, il 4 l No dà tutto tutto Poi, poi, ti dai Poi, poi. Ci hai. serve la te vola tu tu musги solo tu tu… Sì, proprio non come tanto non ti è successo a se ti sta succeduto potrebbe lasciar capire sieht c'è l'unico son come finito non ti ho parlato Ah ti vole bohato! Ok, ma ne sono due in parkour. Mičko, non mi puoi spiegare che è più facile. Ok, andiamo spraverso il riechile jump. Oh, quanto abbiamo? 15 secondi. Andiamo spraverso il riechileggio. Il riechileggio. Il riechileggio. Se ne fornace quindi non lo smacso di, non? Allora mi sono app Daddy, non sono state fatso. Ok, sono appassi. No, non si pari. Ч mean quindi… M Canada vi spredare… Redem.. Vi fordi ti ecc.. No non lo so che? ...parcharco ma... ...ty vlatteri kokot! ...dora a no i tu. ...mogli tu tepnu i tu. ...cadina da me. Dobri ma. ...dora a no i tu. ...dora a no i tu. ...dora a no i tu. ...di. ...di. ...dora. ...dora a no i tu. Io teggiaky, l'ho44?! Già poi tu non ho scettare... Ok ok. ehm seduto che Roby5? allez adesso attualmente bello! no no Lima e la torri getting you to die valente la cavaggio sottopso non attica che super super mantiene l nano ho che Non c'è un pocino Ok, ok Super, super, siamo tu Super Pagano, pagano, pagano Pagano, pagano 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 Ci až Pagano Strami Pagano Pacano Pagano Ok Se Possiami Pagano Pagano Non posso fare parkour? Ma per quanto riguarda la quattro di 10, ma per quanto riguarda le cibo di 10 Ma che voglio risposta Ma non ci sono loro Ma per quanto riguarda il gioco Ma per quanto riguarda la quattro di 10 Ma per quattro di 10 Ma per il gioco Ok, quindi sono più migliare Non... No... Non dimenticare. Siamo ho senso. Anche la città. Siamo da città, abbiamo paura di ciò che. Non ciò che non li bootamò. Non si città, non li bootamò. Noi. Città che ciò che mi sta a ritmo la l'allie 5. Un pocce, noi... Rai e l'allie 5. Di più che cittàggiare. Cosa c'è un UHC che stoia da qui? Cosa... 4v4, 2v2, 2v2 4v4 è l'hobi, ok Cosa c'è l'hobi? Cosa c'è l'hobi? 25 60 Cosa c'è l'hobi UHC 21 Cosa c'è l'hobi? Cosa c'è l'hobi UHC 4v4 Cosa c'è l'hobi Cosa c7 Cosa c'è l'hobi Ereslb Cosa c'è l'hobi Non c'è un pocino. Non c'è un pocino. Ok, non c'è un pocino. Ok, non c'è un pocino. Non c'è un pocino. Ok, non c'è un pocino. Ah, proprio il mladore. Non c'è più più. Chiedi a te? Come chiedi. Come chiedi. Ilder è uomo. Je to na tebe. Ja nebudem... Lec k'ha, se va sa nebude vi dà teba. Jednom by se mi hodilo to je fakt, no. Ah, nech Paťu ja chcem iť aj pi... Killer. Ty si kup sám. Dupam či to nebilo na mne ty vole. Nie, nie, to bola to z killera. Paťa daj mu, daj mu, daj mu. Ukaž mu, kto je chlap. Tade som jeden chlap, ja ju. Jasné, ja som tvoj bossa. Bosca, tu sei il vostro bosca? Niente, non è il mio bambino, io sono... Nello sono il vostro chlap. Poi qui... ... Vodci mat e bosci dove... Fai... Ma che cosa ho detto... Oh... Paio, come ho detto... ...si parla... ...sai... ...è... ...mai Paio... ... ... ... ... ... ... Non, 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 non. Dio! Non, non. Non, non. Stai realizzandoci, 4-50$. Non, non ne vedi. Vai andare un altro, un altro. Non, non, non ho mai stromo. Pfff! Cosa! Non, non, non può. Ehm, posso andare? Prvo, paràda. Sì, abbiamo 300 dure, un dure. Abbiamo 300 dure, siccome. Abbiamo 5. Abbiamo 4, super. Abbiamo 5, super. Abbiamo 5, super. Abbiamo 5. Eh, come il fisso. Ok, è stapperti, bello. Si mi sono qui si p pipe. Siete qui, stupendo la musica del exchanged. Cliccio, destino che mi ha lanciato. Non c'è la musica non c'è la musica. Non c'è la musica. Non c'è la musica dei migli di metà. Non c'è la musica. Non c'è la musica. Ma c'è la musica... ...mache papani... ...ponso... ...mache... ...mache non è tutto... ...mache non so se vuoi... ...dora... ...mache un esempio... ...mache... 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 ...mache adesso... ...mache se vuoi da... ...mache... e i fai un pocino e i fai un pocino oh, c'è un pocino tu sei una cosa che si è in questo tu è un pocino non ho bisogno di acquistare oh, oh, ho bisogno di acquistare non ho bisogno di acquistare me connesco bello anche un luglio anche è Letta no No, diametro 2, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 6, 8, 4... I ho messo bisogno. Oh. Oh, shit. Ok, è certo, non vai. È molto importante per la giunta. oppure ma sono tipo Minecraft? www.math? no io sono così io penso che io penso che però l'altra parte adesso Eh fatto. Ora da un'altra. Qu'era si sento. Ti va è nebail, anche. Il bolo anche qui, ma non vambientà. Non. Ok, spraviamoci in tutto. ... ... ... ... ... Carro Voi subitä na severmannia vieni a qua male Sì che vesti vieni che per haste è stato di fatto come il coraggio, ma non è molto più che non mi piaceva, ma non è più che non ho bisogno di più di più di più di più di più. Sono stati spostati, ci sono stati scottati, ci sono ok, sono le Skywarsy. Sì, sì, sì. Ebbene, ci sono stati scottati pure. Oggi, oggi, tu vole, uff. Voi ragu? Mentre,There è stato che ho compito. Non c'è bene la mia. E' bamb harvest. E' smutno. Ko'venci? C'è più. C'è più voruto. Nierro. C'è più. Sì, per la fine... Pallone e zolano! Ok, ci sono. in catalogo 3 draget 잠ская. Ok, ma... No, allora non è super locali. Islands se più così... C'è il gioco dalle una cosa? E diventare una cosa? Penso che mi li trovo. Quindi penso che non li trovo. Paию non li trovo da disegnare? No, non li trovo da domani? No, non li trovo da domani. Nelio del gioco da eccello. Non mi piace da domani. Non mi piace da domani. Non ho saputo. Sode di decide. Così! c'è credo qui la cosaorangere Sim c'è sic, oppure ri Buda diamanut c'è un bacio Eccbolo, uno di confronto C'è così? Non, suITE a suonare. Perché non metto l'acolo? Perché non metto in quanto riguarda? Ma non metto, mi sono completato. Come posso completarare? Ma per quanto è si non ha spazzuto? E' così molto più l'allore, non mi capisco che ho vero. La 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 la? Qui mi fanno visto male. Ok,inciamo a voler called togo, per andare a leggere a pescara. Tu ci penso che alla la 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 la? Oh, certo. Non devo vedere sa cosa non si può vuo gruppo. Ello dove si fa una video di oggi? ... C'è un pocino per l'aiuto! ... E' un po' per l'aiuto! Ci sono fuori più! Wovov che non! L'hovo, il pavvicino dopo l'hovo. Loh... Mi devo dire! E' da che anche non ti uccolo! E' da qui? Il nostro corso è pronto. Noi... ... 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 non devi fare tutto perché non mi vuoi fare tutto perché c'è il suo lavoro che tu non mi vuoi fare il suo lavoro sono un buon razzola e questo è quello che è importante non ho bisogno di tutti i suoi non sono più consapevoli non ho bisogno di questo non ho bisogno di questo ma ho bisogno di tutto ma io vi voglio mettere il nostro corso quindi alla mia partita e vi saluto non sono davanti . . . . . perché tu hai 10 persone suona, ma tu 12 persone suona. Eccè che... Non si, non ti senti così... Non si farai, non si farai, non si farai più. Non si farai, non si farai, ma cosa ha, perché la miniera ha sempre più. Ma come barbecuolo... Ok, prepariamo tutto... ...e tutto ciò... ...e tutto ciò... ...è un'altra cosa... ...e tutto ciò... questo è una ragione ok sono io ho visto che è stato in stream grazie a te molto Martinko grazie a te molto grazie a te molto non è tutto importante sapete che mi è stato molto importante a me è stato un pochino e questo è il cuore questo è il cuore che si chiede per me Sì, non è successo, non è successo, non è successo, non è successo. ok, andiamo in attrazione non è vero non è vero non è vero che non è vero la maggior parte del Martino se si編i a stavo per tutti i voi perché non ho fatto un incidento e non c'è sì mi ha detto che mi ha detto che non paremmo che si sono poco parecchio io non ho fatto da stai il cliente che è stato stai mi ha detto in questo quindi magari in cui non ci si può vedere, da alcuni questi stream di più, Sdà! Little Fox, sì, Little Fox, sì, Sdà, buona, 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 siamo in grado, ci vi fanno, che ci succediamo, sono tu miei fanno, certi, siccome sono siccate, ahahah, Buongiorno a tutti voi non vedi. Chaudi che ti aprirò nel mare all'атьe. Mi mangiare? Mi mangiare qua il primo gol. Sìrei che ti ho scusso? Chi ti faccio? Chiedi bene i tessi. Tuheres non sono. Non si è scusso di dónde? Non ho deciso di nuovo. Non ho scusso di nuovo. Wow, ok va bene tutto, guardiamo et dal livello Per kindere Buonasera, buonasera, stai lontano, puoi vedere la canzone ma conoscenza. Tutto bene così, ciao, sono annunciciera la batte per le continui per i per vedere. 1 dia 1 dia Alleluia! Erolog! Alleluia! 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 Super! Máme 1 dia Čo je parana Máme takto Líčky čo sa deje KELO Máme zdravý taktiež Teba veľmi pekne Čo sa to dneska deje KELO GOLOMÁ Demensovacant Jahoj Kvitaňa taktiež na streamačku Óplne odpadávam čo sa teraz deje Vtapur Moraku Líčky Homoslerky Ďakujem Ďakujem Žičite všetci streamaček Ale nevedem tomu že toľko veľa Subov Studio Golds Ďakujem Vítaňa Pripívam si na vás To čo od toho Prestaňte už Čiňam Čiňam Zdravím ťa tiež Vítaňte na streamačku Nechciam ani čítať Boha vám Krista Bog Zdravím vám pekne A nerobne si som ja už prdel Čiňam 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 Aleluja 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 Čiňam Čiňam Potom nie Čiňam Čiňam Zdravím ťa tiež Drafím ťa tiež Zdravím Čiňam To by som odpadal la mia cosa è stata sluvesta ma che mi sono vana ma che ho ch occupato l'acqua assolutamente che grazie a la sua sono davanti non è davanti solo veniva ciò che succo che succo che si saputo Grazie a te voglio molto bene, ciao a te voglio molto bene, viaggio a te! Tampi che ciò che ti è già abiti e viaggio a ti chiedi. Boha non c'è scopo. Petr Games, 13, viaggio a te voglio ancora! Viaggio a te voglio molto bene, viaggio a te voglio molto bene. C'è un'altra cosa che ci sia l'acqua di reclamo, ma... ...dove... ...d'hoci. ... 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. Mi sono venuto, non c'è cosa ci può fare, non è possibile, non c'è un pocchio, non è possibile, non c'è più un pocchio, questo è tutto. Non ho visto, non ho detto, non ho visto, non ho visto. Dìfano che ci sta bene, non ho visto, non ho visto, non ho visto, non ho visto, non ho visto. Voi vero molto bene Fui, posso farlo un pocino? Un pocino, un pocino, un pocino Voi vero che non stiava Prendsgallow Voi vero molto bene Grazie per subito Fui, sono un pocino Non stiava, non stiava Grazie a stiava Non stiava, non stiava Ci sono tutte le di Chiaro Devo vero che non stiava Dio Grazie per subito Grazie per che si Molto Grazie per subito Grazie per subito Per subito Non sembra Voi vero, vieni a poco Voi vero, non Grazie per subito Nessuno lo dipende da questa parte e non mi piace, non mi piace. No, direi che vede, non mi piaceva, quindi non mi piaceva. Ehm, per esempio, non mi piaceva. Allora, sì, anche una volta, molto di e scuola. Grazie a tutti i nostri spettatori e vediamo a tutti i nostri spettatori. Oh 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 Timugamertv Zdravim te pekne Dodo Peter Vittam vás na streamer Dufam che se zabavite Drozgaming Zdravim te pekne Dodo Peter Dodo Peter Dodo Peter Dodo Peter Dodo Peter Ya Dodo Peter Ok, scopo sono, parada, yes, scopo sono, halleluja, halleluja, halleluja. Siedeci? Vrago? Tu vede, non si neprdèl. No, 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 scopo. Tu non pii tu vede, ragazzi. No, 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 no. Tu som to ja, hapo. Peter Gein, tak ďakujem ti veľmi pekne, si super. Ešte raz veľké díky. A, Raien, si maximálne vitane na stramečko, ešte raz veľké díky. Hlavne, ale ako som povedal, povedal som kamošom, a ti dajú odber. Super, super, ďakujem ešte raz veľké, Raien. Ale hlavne, aby si sa zabavali na stramečko, ako som povedal. To je hlavne, to je hlavne. Takže Raien, zabavaj sa na stramečko, ak saš klidne pridne zmena surbelagames.cz Myslím, že to mám ešte aj takto, mám to aj na tuto, na IPčke. A, Raien, si rád vitaný, dúfam, že prídeš, ale budeš sa s nami zabavať. Raien, sme troška takí blázni. To bola moja army a plus, dáš mi za to odber? Sorry, teď si dobře rozmyslí, co řekneš, vole. Je to ťažké. A, páťte perv. Peter Gein, dám ti odber. Ale, stále, dám ti ešte jednu vec. Stále prídem k tebe a skontrolujím si tvoj channel. Či máš či tvoja tvorba je naozaj istri za to a či sa mi bude páčiť. Podľa toho ti ten odber, raien, nechám. Dúfam, že to chápeš, naozaj. Odber, ako aj teraz tvoj, sice mi možno kamoši dali odber, ale ak sa mi nikto nebude pozerať na môj channel, tak tie odbery sú mi totálne na nič, tak ti mojem. Ešte raien, ďakujem pekne za tie odbery, ale odbery musia byť tak, ak musí spraviť komunitu, ktorá ťa bude sledovať. A ja vraj môj kominu tu milujem a proste som rád sa teším s nimi a zabavám sa s nimi. Takže ešte raz veľké díky a ideme na lobby 5, samozrejme. A ko nej víc hale? Ko nej víc, perca Sonyho. O, čo, čo? Ja som môj pandičku, ale tak no, ty si máš takú chlapšinsku, no ríčku. Sony 15, mat 1696. Vytam ťa tu, vieni pekne tiež, ahoj, čauko, čauko. A som rád, že si neprišiel, čauko, čauko. A neviem, či mám ja na chybu, ale ty alebo je tak blbší obráz, ale nič im hovorí. Ani náš pekné videjko. Ty môjeme, tak ja končulím pekne. Za to. A pozriem sa, mám taký blbý obráz. Ja sa podívam. Zajte asi inak pripíjeme. Zajte haličky, pripívam sa na vás. Ale ja myslím, že ne, ja neviem. Jo, búrak. Ne, víc než obvykle, ako jo. To je moja devka. To je, co? Ale to je paráda. Stúdio, že mám takto... Ešte 99... Jo, to dáme, to dáme. Kľúčik, kľúčik. Dobre, dobre. Ale podľa mňa už som nesak prišiel za tým. Ja sa pozriem ešte raz za tým. Ale podľa mňa už som za... Ja som si proste upravil s tým Minecraft. Nedal som si ho na celú ploch, ale upravil som si kvôli tom, aby som mohol očítal až komentáry. Ejhá, aj tak tak mám 100 subs. Ejhá. 100 subs. Tak gratulujem. Gratulujem 100 subs, je to tu. Ejjjjjj. Hypeak hypik. Mám 100 subs. Teraz. Jejjjj. Ve 23, to ugral. Dobre, dobre. C'è il 50 ese mago che era proprio che volete per provarsi nelle prendere nessuno stelle. Poi devi chiedere, chiedere. Pochiere, chiedere, chiedere! C'è il 101 suba suprose, 6iet cosa è una gente. Non c'è l'allobi 5, non c'è la mia molto schienza tra le robe, ma l'allobi 5 cosci. No, io sono il 40 suba suprose, non c'è quello che Suchi. No, farti, speriamo alla tua settimana a parfa di hace a ciò che s idea qui tra. cioè il fuoco è tutto il quale 900 subs Vorako si c'è l'aria guarda So... Wgli atifamo Vagina Siamo ora Abbiamo Sì, abbiamo bisogno di spettare una radoste, abbiamo 100 subs, quindi abbiamo bisogno di questo, ora possiamo uscire un poccire un poccire Poi uscire un poccire un poccire SILVESTER 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 Pfff, è visto? SILVESTER 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 All cotto è la mia centrale 3 siamo div�ati SIEB BADmalare! Casella, iscrivess heißt ci che calcio un' abismo Si se per questo owning gli ore va avanti Anche l'onimo abbiamo 24! Io sono si caspe! Ora qualcuno lo schmritta non.. non ho fatto in quel momento, non ho fatto in quel momento ma il viedza di 15 adesso vi dà 2 tisic subs Ketti il video quali da me sono meglio è la prima warrake è top io sono mega top sono troppo sono io c'è! sono non è sch глаз infatti sono sono davvero un patito Super, super, Matinco tu è a ti chiede. Juuu, schoda che mi ne dà in un altro. Maťo tu ne, Raiva, Emička. Sì, sono super, mega top. Faze. Sì, posso farlo? 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 Sì, sì, sì. Pohoda, 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 pohoda. Sì, pohoda, pohoda, pohoda. Sì, pohoda, 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 pohoda. Sì, pohoda, 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 pohoda. Sì, pohoda, super, 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 kala je miunittal. Dnes already mal alaluja in common, Tohto bol trošká mieša chyba Keď som to nepalade. Halrujjjjjj! Halrujjjj! Spinner! No to Mr. Foam sa mi proste nepačilo. Hej, jauľú, feo, neviem, non c'è bene andiamo per di stagione Borghanno a c'è quest'è. Tu devi andare in QW? Tu devi andare in QW1? Piine, spinere, spinere, spinere Spiace, spiace... Haiato? Jopi, non c'è il verde. No, non ti fai, hova. Quali il peso di peso? Non ho capo, non ho capo, non ho capo. Non ho capo, non ho capo. E tutto cosa vuol? Ma, non ho capo, non ho capo. Ma quantità si non ho capo. Non c'è anche Martini. Non c'è la panica? Non c'è la panica? Non c'è la panica. No c'è la panica. Panda King. Panda King. Panda Emi. No c'è. Sì. Bro, sorry. Sorry, sorry Panda Kingu, ale nehriemme, nehriemme... To fa, že mami chlapete. Keby že hrame, keby, že vy dva ak nám vidiete, to je proste strašny overpower. Sony, prečo máš tak roztiahnutý obraz? Roztiahnutý obraz mam fudyrixi però attiene una parte di o Lemme non ok G la la ve quasi tu moi grafica Lola! Lola! Cosa! MC player! Cosa! Cosa! Gratuliamo ci! No, no, no! No, no! Cosa! 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 Lola! Toto sa más násrelo. Nevadí. Furt sme na lade, zabijeme takéhoto chlapsa. Nájdeme si neuvojpečku, dumovu. Všetko kde bývajte mohou zabiť. Tome asi na zdrajičko. Jap. Ah, to bola krásna, krásna vec. No, dobre. Cosa sia uguale per ciò di? Si vole. Chci buzi na ticho. Hai Spinner? Si ti ho spomentato? Spinner nemmai, nemmai. Bohužià, non ho neozmai. Molto sono, ma io ho cikeri, ma non vediamo. Oggi, guardi se nella nostra team. Loh, tutti i barvi sono completamente stessi. Guardi. Guardi, guardi. 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 Non c'è un pocino, non c'è un pocino, ma c'è un pocino che si fanno già Io sono anche un pocino, io sono un pocino, ma se ne ho channo? Ma se mi ha detto, c'è un pocino, c'è un pocino, . 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 C'è la vita? C'è la loro記ire? Di c'è la vita? Non ceci. No, no, vienerlo. Il no... Prendi a qui. Non c'è la mia vita. No vienerla. Ma ora 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 non c'è la mia. Non c'è la mia vita? Non c'è la mia. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Super, pôjde, t'češim si a stav. Aaaaaaaaa, počkajte, jdeme to si už čítal. Erik Erik, holo, je tam je tě vane, pekne. Jo, já jsem si to myslel, kde som, ne? No, ja, 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 jakoby, ne? Vím. Aha, kto to je? Paťo? Ako jsem dostal? Lo, Paťo to je, děš. Tak se z náde dále někudy jít, nebo dá? On sa s tím cúčeš narodil. Ja jsem samozřeval. To má nějaký pukty. Yes! Yes! Som hore! Yes! Konečně! Svetlo! Svetlo! Yes! Svetlo! Slíčko! Ah jo, boj Rašku, ja jsem ťa čakala a neprišiel si. Takovou Raškou takto zklamať niekoho. Hladu by som sa. Jo, a že mi nikdo nenapsal k tomu přijít, ale... Jasné, jasné, ja jsem tam nedoště napsala. Takže jsem to řekl... Skúš se zabiť, nebojte se, že jsem tu. Eh čo, jsem tu. Dobre, dobre. Už jsem... Prečo je asi modrý s námi hrajo? Ešte, ašte... Zvláštně postavená cesta LOL. O, 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 o. Pfff, pojď.. Ty vole kurda. To si ty naps kapal, ty se sám nechal zabiť. Schoď to, schoď to, dělaj vole. Žádný zelený nepůjdou k nám, vole. Čo, jak to mám schodit? Dělaj vole, dělaj, už je tam. Nič nemám, chápeš? Boha. Žádný armisonist tam nebude týkmovat vůbec, vole. Už za ten debilní ne, žádný, prostě ne, neexistuje. A taky debilní. Jo to na to jako musíme mysleť, jo. Jak si dělaj tú grafiku? Jaku grafiku? Já nevímám grafiku. Já mám akorát drahý počet, až to všechno. Grafiku máme len okupenou. To je všechno, čo je. Má točí někdy Pokémon GO? E, čo chcel by si? Tak já jsem Pokémon GO, som level 30. A chceš věděť. Ak bych sa natočit. Pandama nemá rada, já vím, já vím, neboj se. Ale... Emičko to... Ona naozaj spadla? Ona naozaj skočila dole. Dobre, týmko, týmko. A je čo, na veku vůbec nezaleží. Mňa to nehrá žiadnu rolu. Já jsem měl 20. Dobre, dobre, dobre. Ja jem, ale... Jak máš tlustý ty pánáčky? Jaké tu... Ja mám normálne pánáčky. Baraku, někto ti říká, že si tlustý. Jak máš tlustý ty pánáčky. Jop, 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 jop. Ja jem, normálne modrý záviče toto. Dobrý, zelený showdown. Kudu, jop. Takhle se to dělá, tyho. WTF? Jop. Uff. Fuu. Martinko, na, Martinko. To nikdo nechce naozaj? Já na ná, neníš zlo, ale není za to to modrý závič. A co ti provedli, nebo co? A co ti zelený provedli. Na ty, neboj sajď. Víš, budem ochrániť ťa, ochrániť ťa a... Za toto, za toto, počkaj, skapujte. Za toto dostaň na plno. Dobre. Mám to rozhrať? Jest, toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré. To je dobré. Moračkove, ty vieš, kde byvám mesto, po... aaaa, je takto... Je a ja takto! Ty, jak se jau, ježde byvám takhle, 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 takhle? A takhle, 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 takhle se oni tu robili už. wei se nonostante lei non mi holdingà la grafica solo, giorni di forque di la nas Rex i Core di 80 mm è la piaccata di 80 mm pocina, no è stato necessario di un'energia però abbiamo 150 mm, sì, la cello di 40 mm è il VIP, allora ho dovuto vedere da l'espera di 80 mm. E questo è quanto è di 25 mm. Quanto è di 60 mm? Certo, abbiamo 90 mm. Ora sto ставendo via 3ms. l'up seri io la tua scuola è importante Meglio di 정도로 è ancora lo che sei questa sono ancora di più iniziali qui sono gli cedati il posto di Ciao Faze Ciao 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 Faze è stata banata, lol Cielo ma hitovi, možno by to Sa mi zdalo, že ma boli ako hitoviť s 500 km Sa mi celkom zdalo, troška také podozrivie Ale nechcel som vraviť, nechcel som vraviť Tak už som červený jo, ok A ja načnem si zobjeziť, ak môžeš pozrieť na moju zvoru Timko, vraním, si to mi ti môžem Aron, nech som ja Vier, kto to byl, neboj sa, neboj sa na ty Ja som ťa pomstil, už som červený, modrý sa dole Hahahaha Proč sem na modrý? Tak nebo ty si závinul moju a tvoju Hahahaha Počkej, teď pandička je tvoje, ne? Tak je, je, je Ty ses tam s ní pářel, ve mne to jedno Tak jednaš ano Up To bude možmy jist Ouuu Čau thee no 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 io Sori, ma è finito. Sorki, ma è stata la mia. Sorki, ma è stata la mia. Sorki, ma è stata la mia. Ma è stata la mia mia. Ma è stata la mia mia. Gigi. Timo, è tutto bene. Troppo spettiamo con la mia. È un'azienda. Grazie a ci sono e fare anche qui. Parents c'ya devo dire 5 udah quello che verla... Come cosa homentsi come la mia, Voi un'azienda sono un'azienda. ...ma èこれ... Io gietz credo che non lo saliamo. Non lo su ciò che però è il nostro domani qua ne wander alors... C'è merve... Non vermag per Mora, sangaaaa ...maicar lo, frino, prend un'azienda. Sori… Usi... Sori, sulla per委 la 내� stata la mia. Cosa tu? Cosa tu? Cosa tu? Mi si muai fracassi, non posso so OFF! Il giuro che BORÁKA èASE? LOL! Siamo percibata BORÁKA? Ok, andiamo a qui, andiamo a qui! Andiamo a qui! Ho Всем, un comienzo. Ho Всем, un comienzo. Poi, un comienzo, un comienzo. Vediamo il giovane, se la possiamo errarla di più. Kuten l'essere, qualcuno ti lo 40. Noi... Ma non l'è' più ... Diamo solo una volta. etwas. Ci mangiare. Oh no, non ho chiuderemo. Se lo anziaremo, un schien ingresso. se non si possa rinunciare se qualcuno si può scrivere qualcosa di così questo sarà un processo di più e a Kubiku per la commentare Kubiku alias Roar sta a te povera e ora si scrivono Ma anche se non lo sopra che non lo sopra il game, ma non lo sopravo eh. E' un'altra cosa che non dà tutto. Mi ha detto che sia per te e non ti sia così. Noi, non penso che mi non lo sopravo. Non lo sopravo, ma non lo sopravo. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, sono qui? Quali tu blog? Io sono blog. Io sono... ... 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 Ano. Jop. Mo'e ulubione miesta. Eccu furt chodiamo. Ja som Luna. Ja som Luna. Ja som Luna. XDRSK. Ahoj slova. Ahoj slovačiku. Vítaň ťa tu. Vítaň ťa tu. Dôfam, že sa cestrimeček zapáči a užiješ si ho. Tak toto je moje ulubione miesto. Toto je lepšie. Tu ma neviešiť nikto. Tu som si zesklailil sám. Toto je TOP miesto. Ahoj slovači. Neeeee ty si spadla. Oh sakra. Ži ješte ho Hračku? Ja ešte ho no. Dávaj pozor, dávaj pozor. Tu 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 tu. Ale ja už teraz som pekne vítam. Dúfaneš zavajíč. A možno sa pomožím k nám bridáš. Vem na serveri survelagames.cz Začo mám play.survelagames. A kde seš ty? Ty si aký blok? Žičeš říkal že som plot ty vole. Je plot ja som pičo že je blok. Ja som ona. Ja som na tom ľávom boku. Vidíte si na strechu si vidieš? Oh kurda idú tam. No to sa mi lezu to nevedia. To je prý štop. Ja som na streše. A ja? Ty seš ta bila vlna? Kusni tamhle. Tamhle. Kde? Jak skáču na tý střeše? Ja pozrám sa na všetky strechy a neviem kde skákať. Tak vyskolej, skáč. Teraz skáču tam. Skáčam. Ty dva vlna nad sebou. Tak to neviem. Skáčam, teraz skáčam. No no no. To nie som ja. To nie som ja. To nie som ja. To nie som ja. Na to brano čo teraz skočilo. Jo. To ja som z druhej strany sa pozri. Ja som úplne na opačnej strany keď sa pozrieš. Nie môžu kouklatať. Poď poď pri mňa drevený blok pozri sa. Pri mňa drevený blok a skáčem obi dvaja. Ukaž? Jo jo tamte. No už ja som z toho zase ešte no. Dobrý. Ja som tady. Ja to nevidím furt. Ja som pozrám na strechy si vravil. No 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 ten kamený takový. Je kamený. Je to. Oproti mňa presne alebo kde? Ja oproti mňa presne. Ja oproti mňa presne. Ja oproti mňa presne. Nevidím mňa hovno. Ačkaj. Skáč. No. Vidím tu vňu čo beží. Poď mi od tvojej strany si napravo a mňa vod alebo mojej. Napravo a mňa vod. Ja som naproti mňa presne. Tak skáč. Môžu sa pohnúť aby si skákal. Ja nejsem schovaný. Ja skáču normálne. Ja som to nemol. Až nevidím. Bacha 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 bacha. Kokut 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 kokut. Dau. Dobre kde si? Ty si môžu skôr poháže bacha. To kokoľko by som dobral tých 100.000 záladá tebe. Ďakujem ti týmko. Ďakujem ti pekne. Každý si ja slúžime. Každý si nejak začal a... Podľa mňa rajm. Každý si ja slúži keď rajm. No si sa kokoľko to už posieram. Už je u mňa. Ďakujem. Hop. Ja som tě furt nevidel. Znalil si? Ne, ne, ne. Uff, uff. Dobrej. Akož nevidel tě hej? Ne, asi ne hejle. Dobre, tak ja som sa potreboval ujistit či si tam ostal čo nej. Aha, what the fuck. Tak ty si... Jaj, ty mňa teď vidíš jo. Ty wow. Tak ty si nebol na streche. Ne, teď som sem doběhl, protože mňa hodilo zíker. Ty se bude snažit sem dojít, parkant. Hele, už máš tam 40 vteřin, ale to nestihneš, pohoda. Vada, vada, co si myslím. Pradáš, easy, easy. Jasný, jasný. What the fuck? To si tam jako ostal. Mrdka tě vláví, di more. Bože moj. What the fuck? To si tam jako ostal? Je takhle? Ne, ne. Co tu bol? Easy, easy. Easy, easy. Tu si bol. Mrdka jedna, já jsem tam bol, tam bol! Jo, Timko, nekonějte mi pekneš teraz. To je pekná pochvála, nekonějte. Už som tam vyšiel! To je mŕtka! Bože, už som tam bol! Dobre, lidičky. Dáme si šír, dáme si šír. Dáme si... Čo tam? Vidíte, měli teda. Dáme si mine. Mine, dvoch. Tak dám. Tak. VESTE! Hohoho! Čau, jsem tu! Zdraví ťa, VESTE! Vypověděl jsem již 6 rokov. Vytám ťa tu znovu. Podle vám, čo chce. Ale jo, očiš si prišiel. Á, tak... Prišiel jsem si sice odovod, ale tak můžeš si potom potom pozrieť na zaznáme. Tak... Dokopy vlastně jsme hrali u HC, tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Veľa, veľa miniver. Takže prišiel si ho kupu zabaviť. Ale tak vrajem, Takže vám ještě stále budeme hrať a hrať a piť veľa. Zaz FRG 4, mám 10 sekund. Ajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajaj What to fo... Dobry, tak už mám 20 secrom, 0. Tato mapa načiatko vždy to zomre. To je klasika. Já jsem sa mustardoval, di nuovo qui è stato. Vino io che vedo. Ma che entro il brano. Richard Tracksegarmi sa c'è l'amore. La vita in tutto. Continuiamo, io ho sentito, dovuto però con te ... Mi pronto se ti metто, se ti metti bene anche se tu puoi. Oh não, ho vissuto! Oh apologies, sono sono ancora ucchionco. Mesmerci la bloco. Hai scopero? Fanno, siamo ancora su di più. Non ci voglio mi poco? Beh non, non ci voglio. Ah ah tu è on, ci sono sicri Super no Au 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 No to è PITVORA, mi ha detto che mi ha detto Sì, bucate l'amore! Ahojno! Zdrai pekne! Ahoj! 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 Sifte! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Alleluia! 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 Ja stále živ. Za chvíľku skapať, už si nepojte, už si nepojte. Ty mnodka! Ty mnodka! Je ste tu? Jasne, že ste tu. Oh, no. Pokiaľ veň, tak tuto bolo veľa ľudí. Pokiaľ veň, tak tuto bolo strašne veľa ľudí. Môžeme ísť na to. Uuuu! Halleluja! Viem, halleluja! Kde sú všetci? Aha! Tuto neboli dva zlá. Tuto neboli dva diamanty, pokiaľ veň. Jasne, diamantový blok ešte žije. Ak sa to dostane, rýchlo. Rýchlo to dva diamanty. Tuto nikdy neboli dva diamanty. A ešte beacon, že? Tak, tak boli, tak sorry. No jasne, tamhle nahoře určitě ty dva. Kde? Máme nahoře nejakej beacon, to si mi nezdá. Jasne, to bolo určitě on. Ještě je zlatý blok a beacon. Jasne? Jak se sa... Jasne... Jasne, jen je to s tím dostalčím? Jasne, jen je to s tím dostalčím. Jo, už jo. Jasne jsem to říkal, jen je to. Jasne. To to... Halleluja! Non c'è il blokio. Doi? Non c'è... Siamo. Nodiamo. Ho vittimo! Ciao! Ciao! Così c'è qualcosa? C'è il mondo? C'è il mondo? C'è il mondo? C'è il mondo? C'è la prima prima? No, non c'è troppo bene. Mi sembrava anche l' recapitalare. Scusi. Non c'è un lobby che dovessi vencere per tipi di uscela. Un paragonal momento. Ok, io ho scusato. Sono in tutto qui. Quindi, a chi, io ho andato. Mi vai succe per la tua esperanza. No, non si sembra per aiuto. Ok, ok, ok. Senti serviti. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Perché tu non hai un youtuberi? No, non ho, non ho. Perché tu non hai un youtuberi? Non ho questo, perché sei anche un youtuber. Hai una sguardo? Non ho, non ho messo 10k+. 10k+,? Allora fa chi ha fatto la notina? Allora. Sesta ci siamo la notina... Stiamo a few ... Sono di interference. Mi piace, io sono alex. Lei è vero. No no, ci è fuori loro. Tu sei che la notina? Lara Angella? No, tu fatti, Lara Angella. Per me, Lara. Tu sei che la notina? Lara, provi ta notina, cosa mi compi? non ti dovete farlo spetate ne vediamo ci dovete ah ok, non c'è una strada, non c'è un pocino ma non c'è un pocino ah, sono un pocino non c'è un pocino? non c'è un pocino non c'è un pocino non c'è un pocino nebem ma non c'è un pocino ok, non c'è un pocino ma ma, non c'è un pocino ogni giorno là si chiede che ogni giorno non c'è non c'è quello che ho comparsa che dà lei ... ... E? ... ... different ... ... ... ... ... ... Nicola, non mi metto? Tu non mi metto? Non mi metto i ho detto senza il modo. Rai cosa cercherò? Sì, non mi metto. Non mi metto, non mi metto? Non mi metto. Sì. Ora, non mi metto? Si non mi metto, no non mi metto. Sì, non mi metto. Ma venite anche il giorno. Lai, il mio pochresso, Mi piace anche la parte della stazione di più. Cosa, più tempo. Perché non è l'obbso la parte della stazione. Se aside, mi piace anche la parte per lì. Se uno in quanto riguarda la parte. È l'obbso. Una parte la parte di più. Un granito di uomo. È uno in grage. Nogiorno, non c'è chiama находiamo l'emcino. Chiedi di tutto da scinti. Siamo scinti. Il fatto da scinti. Siamo scinti. Ma che è più basso. Cosa ti dosta da mezzarra? Ehi ha! Paćko, ti senti se, ti senti se Paćko. Grazie molto, grazie. Grazie molto, grazie molto. Grazie molto, grazie molto. Yes, sono tu, sono tu, sono tu! Cosa c'è il blok? Non c'è il blok? Non c'è, non c'è il blok. Non c'è il blok? Non c'è il blok. Benevame, non c'è il blok. Esatto, non c'è il blok. Ci si ande, lavo la decisione mi sem ten. Un euro. Tu ma la scullola, giveriamoci. No chci, non c'è il blok? Non c'è il blok a ti si si la scullola? Non c'è l'ai, non c'è il blok. Chci, non c'è l'ai, non c'è il blok. Oggi ho bisogno di direzione del mio, che mi viene da chiama. Quindi io ho bisogno di direzione del mio! Quindi io ho bisogno di bravo di direzione del mio, io ho bisogno di direzione del mio. Perché i ho bisogno di direzione del mio. Perché il mio mio dice di direzione che è stato fatto da fuori, perché sono due a i sui da le scopo. Poi sono un pochino che, io sono 4, O che ho fatto? Ma c'è una scuola? Ma c'è una scuola che sono da me. Hai un'optifine? Hai un'optifine? Hai un'optifine. Ok, vediamo l'optifine. O che c'è un'emantivo? O che c'è un'emantivo? Anche il video. Ok, andiamo a qui. Esti stai. Non ci ci vuole. No, non ci vuole. Non ci vuole. Non ci vuole anche una storia, ma che è stato da stile. Grazie a tutti. No... Perché io mi . No... Esatto... Zame me ho Zame me ho Zame me ho Zame me ho Utica si che paremmo è sanzionato che si è la mossa perché ha low hp oh 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 ci è arrivato nell'allfitto che ne scientifichi se è inore gorgle sanzionato non è stato sestonato che apprischi Oto chi è questo? Provocazione. 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 Ma scriscia imbola! No abbiamo fatto la scriscia. Bloc di man, Penso che vediamo. Eppure 2 persone? Pate, sei tu che ci c'è? Pate, c'è il calcio? npetta Certo. Certo. Vienes? Oh, da l'abbiamo! Tant ho visto! Ehi. Certo, c'è la quina! Certo, c'è la quina! Certo, c'è la quina! Certo, c'è la quina. Sì, c'è la quina! Certo, c'è la quina! Sì, lei si sia molto fortemente. Non, non, non! Non! Sì, non! O, è veniva! Sì sì, gli venivi da te Staira in quella storia, non? Non c'è? No, non c'è... Non c'è? Oh no ho trovato. Ohlio di averte che lasciarti. Ah no. Oh no, a pochè, ho trovato. Oh no ma sia il tempo. 5 vs click prazo di freddo Si traccia ho visto andiamo l'obby come l'obby l'obby 5 maggiore si non funziona l'obby 4 e si traccia 9 pòd BEON 1 ok 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 non si riesce buono non mi piace dovuto Non c'è un pocino che c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino che c'è un pocino che c'è un pocino che c'è un pocino che c'è un pocino. Allora, io ho detto che c'è un pocino. Alla mattia sono tutti i amici. Ok, non è un pocino che Matteo, studio. No, no, è super. Oh, questo è un pocino. Il mio nome è top, sulla di Armissone, è top. Il mio nome è più di Armissone, ma non so se non ne sappiamo comunque tutto. Oh, sto chiedendo l'armi, non c'è un pocino che il pocino. Un pocino non c'è un pocino che c'è la nostra, penso che ha per poi sono di funcione anche il pontio. Sono sono è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino, non c'è un pocino. Quali è un pocino, ma devo andare attraverso la luta! Ó, seventh è un pocino? Non c'è chiuso, non c'è chiuso, non c'è chiuso, ma c'è chiuso, ma c'è chiuso? C'è chiuso. Pando, non c'è chi si chiama Armissoni, si da me vyskrivo, lol. Non c'è chiama, non c'è chiama. Non c'è chiama, non c'è chiama un'amore originale, è tutto il momento. Anche tu? Ello c'è? Edo c'è la mia? Ma? No vissà sono stati? Edo, dopo tutto vissono? Però è ahí è tutto l'armio. Tutto sia tutto l'armio. Ma devo dire che ti siate visto? Siamo dai, sai siamo vinti. No dai, tutti sono privati redditi. Sì, sai, sono anche... Ah, succo. Siamo anche più aiuto. Oggi? Ah, sono... Purtroppo sono... Surti surti ma sono a vi ho parlato con il rumore. Ha vi chiamo di gioco. Musi vihrae, certo. Aurinko vai ti, ok, vi fanno buono. Veri che vi fanno sul. Imi vieno di tutto. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. mi piaceva non vabbiamo qui è ho sono ti parlava Katie ho non 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 ma non sono scopri ma non sono scopri non sono scopri ma non è successo non è l'accio ma non hai ragazzi ma non è un poichino però non è un poichino non è successo non è il poichino il poichino tagli vabbiamo nella sua operazione perché metto i 7 signori che non mi occupo 3 promili ma viac in modo 5 3 promili quindi no che piani sono 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 erasso c'è Capito! Mi piace cominciare. Non voglio vedere tutti i commenti. Capito! Mi piace tutto questo, assiccolò per un pocci come. lo spiega del foulard messi ma cosa non 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 ma comunque certo che non ho fatto segnare la campagna ma quando conosco gli altri strumenti lo conosco, lo vediamo che tutti gli altri non è per me che ovviamente non ti da solo non è sempre adesso… ma come a vedere come a l'infu небo dal video oggi ho fatto molto desponiamo Hanno 7 submeni come Sony Vcera a RENGENU è in poho, è in poho, è in poho è in poho, è in poho è in poho, è in poho, è in poho Alla ragazzi, è in poho è in poho, è in poho no, è in poho No, questo sono doktori CZSK C'è se in TSA C'è se in Skype C'è se in Skype C'è se in Skype però C'è a no I sì No 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 quindi non si sia bene! non si sa riusciti.... non si sa riusciti ma cosa ne fa moda? non mi viene da moda non mi viene da moda perché stiham lo tanto ma c'è un povera ma per la mia e il vero che i svolghi ha svolgli sovrapposti a questo non si sa non mi viene da un poverso ma non si sa Sì, non ho potuto fare la seconda, non ho saputo, è uno dei migliori tra di più, non ho capito. è quello che si sa costeria, non ho capito, non ho capito. Jaccio, non ho capito, non ho capito, ma non ho capito. Non ho capito. Tududududududududududududududu. Racli cattori. Pohoda e jazda E' una cosa che mi piace 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 D'accordo che non ci sono E' un pochino Potevo avere un pochino Non posso dire Non posso dire Non posso dire C'è un pochino Vi chiedi qua di tipo di ip. Per quanto riguarda, dovrò che ti consiglio di poterci a te ti consiglio di per se. Per quanto riguarda. Poi ci si consiglio di per se per se per qualsiasi che piacciono. Non, solo bisoglio di per se per se. Non, solo bisoglio di per se per se. Ma è una volta che ci si consiglio di per se. Sì. Poi, vorrei che ci consiglio di per se per se per se. Non ho vieno! Non ho vieno! Sì! 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 Môžeš, môžeš! Keď už kúpíš, tak budem ďakovať za to, ale Ryan! Keď si kúpíš niečo pre seba viacej, tak budem ešte s toho radšej ako keby, že mi kúpíš ju äpíčkov. For to môj! Pačo! Bóóó mé! Sì, è vero. Si tu cosa stai ausendo? E tu cosa stai dicci? Cosa immagina? Però tu non vuistai come capace alla loro. Ma che ti richai tutti i l'hai ancora di attuare. Non li ho proprio póti l'armi ma proprio l'armi. No, non ci ho visto che anche oddiare l'armi tenere tra l'armi. Non so che si è stato un pocino, non so che si è stato un pocino. Buraček è proprio il gioco. Non so che c'è il gioco. Non so che c'è il gioco. No come prima non so che ho detto che ho vede solo Buraček. Evo vero, non è volto. Cosa è molto più importante. Ma quando mi fanno parlare su di sì. Ma non mi fanno parlare in merda. Perché quando mi fanno parlare di sì, non mi fanno parlare. Cosa che non mi fanno parlare. Cosa che non mi fanno parlare. No, io non mi fanno parlare con la sua. Non mi fanno parlare con la sua. sto siano oggi, devo scharare tutto dallo mettere in audazio a ecchare G-DOWN no no, come vi hai detto bene, non, vi voglio un G-DOWN troppo più più perché fai già lasciato un stato vero ma come se non mi permesso a lembilo perché ho capito in questo modo e praticamente il mio team ha detto in questo gli ho chiuso a il mio team sono chiesto a quel che tirò non mi sento che mi sono arrivato alla stream, ho registrato, mi piace, c'è già già. Oh, ok, ok. Ok, 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 qui è il team è? Borre a Martina, ma che i macchina, super super. Sono stata super, sono stata per la cokollare, non ho la cokollare, non ho la cokollare, non ho la cokollare. Non ho il mio, non ho la cokollare. Non ho la cokollare. Non ho la cokollare. Non ho la cokollare, non ho la cokollare. come si chiede così, come si chiede? no, ma già ho detto che è tutto il tempo ma hai una cosa che ho trovato? ma hai una cosa che ho trovato? ma ho pensato che ho fatto un'altra cosa ma ho fatto un'altra cosa non, ma ho fatto un'altra cosa Be the army? Cosa? Ci sono due. Meriak! Sopsa! Sopsa! Non spammi! Non spammi! Non spammi! Non spammi! Ciao! Non spammi! Non spammi! Plashtex army! Keviniak! Vítaňte na stremečku! Ale dober, nechaj mi to teraz! Ale počkej, počkej! 20 lidí na streamu. 36 hali kulo. Ale o tom reakciu mi dostanou. WTF? WTF toľko ľudí? Tak ja ani neviem, kto to je. Ani neviem. Nicole army! Ličky! Go go go! Vítaňte im. Sony army. Ani ličky, ďakujem veľmi pekne, že ste tu. Stav. Video army, vítam, 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 vítam. Stav mám stav. Ah, kto je stav. Boh, ale ten spamkám. To je napýt. To aj. Sony, daj mi moda. Ja sa pozerajom chvíľku. Dávam, ešte chvíľočku dám. Poďte si znova stále streamovať. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi. Video army, sorry. Ale moc spamu. Ale toto je, ty vole kurva. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi. Video army. Ďakujem veľmi. Chup. 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 il grado di tu tu sono una caglia adorosa non è inglesi non è non ho scusato non ho come ok Ahahahahhaahha. Eccryzionale. Perché lo fa banal? Non puoi far in un'insurazione, non puoi a farlo. Puoi far in un commento. Prendi, ragazzi. Prendi stream per le persone. Si mi piaceva il video, sono sempre più amico, mi piaceva il video. Ok, ok, ok. Alcima Assicci Usiamo! Mi portavo lagco! Varco. Più. Da mi portavo lagcoий. Crazzo! La scuola abbia la tua spalmi. Ciao! Disci l'agge! Però ai ai. Ciao! Non sono! è stato un esplazzo dell'inopo non mi sembra di più è stato un esplazzo è stato un esplazzo il esplazzo e io io l'hodo io l'hodo il esplazzo che c'è la l'hodo 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 Katricho! Mi so poco! Allora, parti del schienem psia. Sì! Chaivenne! Malado... Domini... Kladdek? Mi ch projecte COMiny Ah早é Da tenant No Asi trovo Creo No 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 può dire che farlo matava служiscchi dovrò davvero se probabilmente si lo portiamo un Branno dolci non ecco Non lo sopravvi Non sopravvi Ahoj! Mi piace di tello del canale Peća game Non lo sopravvi Non lo sopravvi Ci sono stati all'apettato Sizzare No Non lo sopravvi Non lo sopravvi Non lo sopravvi Non lo sopravvi Bello che non lo soto, dal fine non ci sono. Perchè anche il proprio pire? Non, perche ne di pire? Non, perche non ci pire? Oh sì, non ti lo sogo, non posso opere! Non ti lo sogo, non ti bisa pitch, ti ho detto. Si sei che mi ti sono smutante e la peggio, questo è un gatto vera essere un pocci sono un pocci ad esempio se mi chiede mi chiede a a ci fare se cerchi andate chiede Non mi sembrava direttare che ti dovresti fare qualcosa di più che senti. Mi sembrava direttare, quello che avevo pesado. Prendi io ti sei il testo, però mi sembrava direttare. isti. Basce come 1-1 come 1-1 non preoccupi finiamo bella non usacqua bella Iba 1-1. Sony Borrach è patito da Nikolarni. Pochè... No, pochè, ma si palla nascobbog, sony Borrach. 3, 2, 1. No, pochè, no, pochè. voilà, tu sei? No poď, Pače. Come, 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 come. Pôď dove sei? Oggi Da che ti senti manco! Lai che ti senti! Domenico sono mi perfetto. Ha detto che mi chiede Vrba. Mi chiede Vrba, mi chiede Come vrba, mi chiedeLE. Come vrba, mi chiedevi, come in semia. Come vrba, come in. Come in. Sì, mi chiede l'eva. Sì, non è mai così. Come in. E ho pensato? No mene è completamente interessa. Non, nemmeno... Vim, 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 vim. A que pače, ti si pače o no? Dej F5, teď, dej F5. Ja, sem dal, che f5 mám. Teh' dobrý, ne? Ja vim. Oggi, screan, print. Taky som si usi. Oggi tu, pi**e? Druk, tuto, dobbere. Ok, mam screan. Hija. Sì chieni Sì chieni ASSENCUL No Asso Non posso Non non posso Non posso Vuomo Non è il giorno Non è il giorno Non abbiamo Il giorno Non è vieno Nel giorno Non sta Sì Ok No Sì Sì Ho qui Sì Ha Ho qui Ho qui Dunque se stavano in un altro e il mape. Certo. Oggi, devo dire che ci sono un certo. Certo, c'è un certo. Certo, allora ci sono ancora un certo. Qualità da me? No mi è 24. No mi è 38. Non mi è 6 e no mi è 5. C'è l'viazione? Sì, abbiamo fatto rinambi. Sono in più a ci ho fatto... Ha detto, abbiamo appena nascosto. Mi convoccio molto fai. Sono stato qui... Ci sono tutti, quali, come la cazzo. Chi è l'hovo? No, non cazzo. Non cazzo cosa, non cazzo. Che sono io. C'è Paquio, c'è Paquio, c'è Paquio. Cosa, c'è chi è di te? Cosa? Cosa è il mio tajno miello, c'è Paquio. Martin è sempre il Seeker? Martin è sempre il Seeker? Wow... Ti senti davvero... Patti... Cosa Dominic? Dominic... Patti... 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 ... 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 Emi un poiccio, come ti lascio. Non cuncio, non cuncio, non cuncio, non cuncio. Si stai perduto un lucio, non si non cuncio. Tu ti ziace? Ok, come ti adesso. Emi un poiccio, non cuncio. Buono mi chiamato... Benevール la sua nuova, non cuncio, non c'era l'évole. No, perchesco, a presto. Sono in pilota. E' un complattato, come pensi che siamo stati? WTF, ci sono tutti? Ah, ciao. Ciao, ciao. No, non c'è qui qui? Non c'è qui? Un' membre. Mogissimo, ti sorrini. Epaq overboard... indenone... è... C'è chi? C'è questo la amane? Jezasemura... Così? C'è chi? Viva! Martin mi ha abitato. bn like 1 segni. Ok, ok, ok. Edi? Ok, 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 ok. A tutti stai l' blush per ora. ma sembra se si chiede mi sei stai every posso non non è perché Hai dal vieno GAME TEAM? Occholpate. Dove. Go, go, go! Game team Sky Wars. Sem tam. Aja. Konecchina Sky Team, super. Io, konecchina, benissimo, benissimo. Ehm, ti ho chiamo insieme. Sky Wars server è... Ma che ho chiamo insieme. Wow, ma che ho chiamo insieme. Ma un'imie qui si ho chiamo insieme. Mi aspetta da te, non ci ho chiamo. no ok sono slovensky hokeista lol ahahah ok 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 sono 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 ok doktore siamo sono non ma 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 è stata anche la C Attaccia sta perezza Gr fühlamo su bravo Specialmente è meglio di tutti tutti hanno il suo lavoro e tutti hanno messo su questo ma non è più più in cui è più meglio il suo lavoro che io ho trovato di più di più e io ho trovato non mi sembra non mi sembra non mi sembra ma non mi sembra ma non mi sembra potrebovalo potremmo potremmo WTF guarda 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 WTF brutale pvp guarda 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 chcel luft just 음악 pay è un bravo cheater. no c'è un bravo che, non c'è un bravo cheater. è l'appare che ciò che ho da pe? 100k Guddal, non c'è un streaming. 100k sups. in più del streaming. Il rispito da un milion di sub. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, tu scoccii predo me. Sì, io sono 4. Sì, io sono 4. Sì, io sono 2. Sì, io sono 4. Sì, io sono 4. Sì, io sono 4. Sì, io sono un nuovo. Sì? Ciao, patreon! Sì, di sì, O Tábamuro. Non c'è nessuno. Sì. Sì. Sì, è stato il mio paio. È stato un pocino. Ma... ... ... ... ... ... ... Basta mancina e non cessica. Evo un consiglio a mancina a non c'è chi non mancina. Un consiglio che non puoi farlo. Un consiglio che non c'è chi è il suo modo da c'è chi è il chieno. Si non puoi, non puoi. Un consiglio che non puoi. Ma che ti arrivi, puoi. Poi ci si riusciti a sbattavi. until tempo No, ma che cosa c'è? Quali? Segui, mi ha detto. Poi ci mi ha detto, mi ha detto. I ho detto, i ho detto. Sia la mia! Sia la mia! Da me ho detto... Sia la mia! C'è la mia! Ma con la mia! Non ti ho detto, ma l'amore! Non ti ho detto, ma... home come la torna a l'aiuto c'è che c'è il bologna che c'è il bologna è in me in me l'hozza 50 ottina il bologna c'è il bologna un 3 2 1 3 2 1 0 3 4 WTF WTF Perca, hooo, ti fanno in un'peraico! Buono che si metti il nostro romano. Qui è la nostra carina, la famiglia di arme. Come, 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 come. Come, 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 come. Ma penso che sia tu super, ma penso che sia tu più di più. Insieme a questo qui per me ne sento. Ero io. Ho più... Ci sargazzo, non ho sento da l'altro. ... ... questo è esatto e l'eva Anche io l'eva Ezi v'eva Bene Ezi v'eva Vese Vese Ezi v'eva Pater Torča Percorz Tu te lo piacere ho scusato mi piace Aioj Aioj No S Quelqu tymaine è sempre io penso che tu rimasto ha? dai? sì, sono William 3 a 1 solo ha mi chiedo esporto mattv ahea hovi dammi bene d'acolo che ci ringasio si tu ti ringasci davanti vi abbiamo le membri sono le più abbiamo in le più ho scopo ho nato guardare d'acolo vi ringasio si ringasio si ringasio si ringasio Sì! Sì! Cosa ti ha martin? Cosa? 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 Cosa ti sei morto? Cosa? Koukneci se nel mio canale e mandi le video di chat? Non. Cosa? 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 Arsonii, vidite to? Arsonii, arsonii, arsonii. Zimpite som halls, replace,cellence, kotko sa je na môj kanale. Korpane možno ti klidne ohodnotiť k tvoj kanáli, to nie je zase po stremep, ale momentálne nemám času. Ale daj močno ti súbi, že sa poz 35 paní, Trazione habeno da terra quindi da tenere sono giusti come lei sei si chiamé la cosa un porno proprio che Issa Dasse change Buurak1 è fai Buurak1 è la più originale Animeli, ahoj, grazie a viitam te nella streama Ahoj, ahoj Ahoj, Buurak1 è il numero 1 Sì, non c'è il numero 1 Sì, non c'è il numero 1 Sì, non c'è un numero 2 Wtf Ciao, 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 ciao. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 ci sono stati che li faccio non ci sono stati vedi che ci sono stati ma cosa che io non c'è ma la storia ma non c'è ma non le fare tutti sono stati 321 allora vipì vipi vipi come tanti di Benji ciao 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 intimo dunque tufanno di via A se non ceci è il fatto che si tienila a te le non supriega turnare con la teoria sul suprano. Noi buone se sono i siano i buoni. Se 20 giorni suprano, per un giorno sono suprano. Guardián, si è stato il più per l'aiuto. Guardián, la tua due. Ma vi consigli di solare per la gara... Quese è stato con la sua parte... un tipo di 3,1, 1 del aggiungo che ci si ho ne aveva si metto uff, ora ti se ne viendere che a te sono tu? sei più? uff sono stato un secondo sei tu? hm? daventina è.. davvero c'è sempre più 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 davvero buvo bene davvero sei tu? hm? sì sì hm? Tu sei davvero... Madmattian e Aburrak è super. No, come se pensi di questo? Ok, no. Cosa mi ha pensato? Super Sword? Super Sword? Tanto sei... ...na zlom... ...svete. Ja sono comunque morto. Ja lo vedo. Eccolo 1. Poi andiamo! Da me hype, pace and likes. Wow, tu sei tu... Cool, ja som vyrával, super. Koneče, beza mea si stea zaslužil. Poďte moj, moj moj moj, nani pus, ko sa. 3, 2, 1... 3, 2, 1, go. Nechciel by si zmieniť názvo hype, 130 subs? Nie, nie. Dneska dáme hype 100 subs. Ja sa na to verím, verím vám, Diečky. Verím vám. 100 subs dneska dáme. Hele, budeme streamovať do tý doby, dokud te nedáme. Tak. Ja som povedala, dneska streamuje celý týždeň. Seppre se si non si fermo, si fiume stava. Ma la mia è l'allone, non lo so? Loll, io ho dobbiamo due strane, bò. Ok, scriveremo. Tu non mi sei, giù? Strane, poch, 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 tu mrtca. Due strane, strane, sì. Dobrè, ci chiamo la sua 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 sony. Martin, tu si è morto, tu si è più stessa. Solo la boracca! Ero e ora! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Lola, non ho non ho capo. Ma io non ho capo. Si fai... Non ti senti... Non, mi sono sempre che sembri Gente. Sto 5 mahi, hai miliardi, guardiane... Ok, non sono ancora un stream, sono mi piace. No... Un stream ... fun... Sani? Ano? Barako, io ci puoi un pocino. Tu ti ho conosci, tu non ho conosci. Tu sei un pocino. Tu sei un pocino. Cosa? 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 A llamado? I tu sono Ил pessoal. Eius, eusk yardra. Cosa? Ac tego... Cosa? Cosa? Jo, grazie. Ok, allora adesso non zam будут şiata. Cosa? A come si tu non ho pensatori. non è l'avato l'avato non c'è l'avato non è l'avato non è l'avato è l'avato l'avato che non lo vede sei un buzno non è l'avato se l'avato vedi sono ancora ma Io non sono stati al fatto, può essere percierto! Mi ci ho chiamo già! Non mi piace, stai smettando, non mi piace Non proprio non mi piace, non mi piace! Poi te in la scuola, se ti faccio. Potremmo a te lo scuola? Poi te lo scuola, per quanto mi puoi scuola? Ci sono a te lo scuola. 3,2,1, GO! Ok, ci sono vissi, mam rai. Timo, tu si napsal tepubliku, to znam ako znie ako teplá republika. A vorak to hneď pochopil, ako si to hneď povedal. To znie strašne. Prestávam čítať ten komentár, ako si napsal tepubliku. Viem, že si to nevyslal tak, ale... Tepubliku, no, no. Ty pič pič! A uteká. Puzerant. Ids mi Jakub. Jakub, sedd mi. SONY BUDE, SONY PONY PAI. SONY PONY PAI. SONY PONY PAI. Vy ste výpade. Poď na Q5. Všetci chcete ísť, poďme tam poďme... Nedá sa mi ešať ísť, líčky. Práve ja... SONY chceš poslať ten song? Už viem, poďme kukal som ho teraz. Už viem, kukal som ho teraz. Už viem, kukal som ho teraz. Sorry, som na tablete a nesom vyknutý písal na zlete. Ty moja, veň, že to my som strane nepreboval. Tak by ešte 3,2,1. Čakaj, čakaj. Ty, 나�, nes surprisingly. Ty im ešte, mal aký 1 teraz. Ááá. Ám Its hatáťa. Nekonečný stream, häštaj. Áno, 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 áno. Sorry sa interf figured, už kňame to! Poďme poďme víc ali ať tr족 două gro åi, automat rám주 emb trucs ach deyze. Pohoda ja da, ja som to pochopenias, potrer setzul, prostrút po drod Pretože takto by abiesnelo aðran Madame. Ja si nemspravísť strandu do seba sam Grant, sa mi�um to prižeN ольne, to nie rohme dobré. Sì, slova città, per me. Sì, slova città, per me. Dà questo proprio sul porto? Non, non, non. Non c'è chi c'è il perlu. Ok. Oh shit, io si posso scrievi all'interno. Cosa ti potevo? Cosa ti potevo? Certo? Ci sembra più mese. Ci sembra più una nuova. Ghaia Wora? Ghiè? Ghiè? Ahahah, Guardi! Sono molto capace, sono poco. Non ti piace? Eccoci, sono pranzo. Cosa? 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 Regatta? AragunTV, te scuola. P bentornati in stream! Papi cosa? Cosa? Ciao, adesso sono scuola! Poi che bebi che a me guardi dal 360 per il risultato... Sì, conti! 3, 2, 1. No, io ando pići. Eppu. Mi siamo chlapi. Eppu. 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 Alleluia. Cosa Guardiani, Guardián Pamili. Eppu. 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 Ok. Eppu. Eppu. H. worldly. Eppu. Eppu. Eh Bisoglio che tu va srattati a che tu to srattati! !! Ahe ZDRAVIDI UTUno! Ma lo chiede! Ehm.. GUTTI SUBICA LIBI SE MI VII STREAMER IMME UVIVI DI MI A NAM 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 LA ME I FACI DAVAZI SE SEVIZIOU E E TITOLO a il limite di nuovo suporto gloria se non ti arremmo nel mare l'accino unito davanti ma il limite ma si No, la via! Ci sono due blochi, le vedi? Cosa... 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 Ora... Cosa... Cosa 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 Nera YES sensory Ma io a dirò come Tcall la projection Se aprirrani Se aprirò Seconda Inoliere so come ma know It's asso è tutto il pubblico, è tutto il pubblico viena, è tutto il pubblico. Ciò per aver guardato, ciò che lo tratta di nuovo, è tutto il pubblico. Inoltre ho fatto il pubblico. Ho proprio il pubblico, nel 12 giorni. Sera, verso il pubblico. Non so che scrivo come creepo, non mi ha capito, ma non mi ha capito, ma non mi ha capito, ma non mi ha capito. Allora, come tu? Come on, Song ha 10 likes e 10-6 mili. E' così, non ho capito. Come hai lavoro e hai ragazza? Cosa, sono molto... ... ha fatto, è stato molto... ... ma non ho ragazza. Non mi ha detto questo, ma che non mi è venuto a non lo soffi. Enormно ho visto, ma giù trovo un pocchio. Alla prossima! I tu! Il siu ha CASATO... ... Forza, metti. 3, 2, 1, GO! Dovezi! Dovezi! Allò, ora ho vediato! Guardiane! Ja som bol už v Nemecku aj tam, kde mal Hitler svoju budovu. Tu chatu nejako to mal. Vlastne to je opetno. A bol som úplne na tom kopci, kde mal vlastne jeho prvý plukovník, čo to mal... Vlastne jeho prvý plukovník, čo mal... Ako nejak... Serky, ale... Čo tam mal vlastne na tom kopci... ...tú chatu tiež. Vlastne takom úplne... ...skala na tom mieste, na takom kopci proste. A... Som sa bavol o tom s pármi ľuďmi a to proste. Tam muselo by totálne hardcore vyniesť tie vlastne materiály, aby postavil tú chatu a našla ten dom. To keby ste vidíte, to bolo asi tak 70 stupňov. Predstavte si, 70 stupňov... ...spad. A tam si postavil chatu proste. Tam nemal ani niekto zaotočiť, tam sa nedalo. To bolo ako horologická čistá vec. Krásna kámiel. Presne tak, presne tak. Gwardín. Ja som úplne zabudol, pretože pijem. Aby si to vedel, Gwardín. Ehm... Ehm... Tr... Troška pijem. Tak... Majte... ...so mňou... ...str... ...penia. Hehehe. Bydovej! Ideme! 3... 3... 2... 1... Go! Skeletu je! Super! Du-du-du... Ja si pripíjame na zdrajičko. Mám strpenie. Mám. Ďakujem. 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 Čus! Zdravím ťa! Ďakujem. Ďakujem. 1... Ďakujem. No. Sm persuaded. Chod, žena needal! Chod. Preklaže opetite. Ďakujem. 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 Jo. Ah, ero che ho venduto? ... Dio, sono stato un dolore! Perko, mi saluto. Ah, ho. Qua pelle... Ma una casa a te due con le mie della web? Cosa a te due con le mie. ma già non è di più ma è molto più mica non mi piacere non mi piacere non mi piacere non mi piacere che si è vero adesso non mi piacere fa non mi piacere non mi piacere mi piacere scusasse che ci sono freddo scusasse che ci siano ampi se riesce più strettverte allora ti priponiamo diciamo per se non non è non è non è non mi sono così la mia sono un'amore. Oggi tutti i tutti che lo guardano, voi si usate orate, ma che è chato, ma che è un'altra cosa che ho fatto. No no, vieni da' l'abbiamo. Ti, 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 ti. Vizia.sk, mi prendi un peccato, Ehm Sony, io ho la tua foto, non c'è nessun sfobo. Non c'è nessun sfobo, non c'è nessun sfobo. Non c'è nessun sfobo, non c'è nessun sfobo... Ehm non c'è nessun sfobo. Ehm Sony, tu c'è nessun sfobo, non c'è nessun sfobo in åpare. Grazie a tutti. No, non ci. No, non ci. No, non ci si sa più diciamo. Non ci ho scenduto, non ci posso allesновare. Non ci si rende malo. Non ci ho scenduto! Non ci ho scenduto, non ci sono ancora di 20 minuti. Non ci ho muo male. Il mio adesso sono. Una. 3, 2, 1 F**k game team Hugino ahoj Ahoj F**k game team Cosa ti Katras Skywars OTO Di Cosa Môže byť takéto hlupi Ahoj Co? Sa dá F**k Dúfaš ma to nimi naje Čo mám? Čo tu mám spraviť? Z hličky? Mám Krumpáč a mám Iva a Ivo Livins A tento... Huuuuu Klydek Klydek Rozmáha a tabáček Tíčky Heiznick ma zabil Heiznick ma zabil Nicole potvrddžiem to Guardián mný Prepáčite mohne tu aj Guardián Mi sa to stračne páči, lebo Guardián u chránca da sa povať Guardián... Nie tu aj takých slovo, ale Guardián sa mi stračne páči, lebo je to veľmi hype Guardián je proste Také drsne meno Dúfaš, že tak môžem hrať Dúfaš, že sa nevyrazíš Dúfaš, že sa nevyrazíš Dúfaš Dúfaš To bude tajný jazyk, ktorý ste nikto nepochopili Ja viem A nikto mi neplatí, možná tak Čo, 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 počkaj Ja to tak videlá sem točí stalker Abym o tebe še... Abym otex Abym otex Abym otex Abym otex Ajajaj Mám tu stalker Aj jo aj jo Čakám ťa, ďakám ťa Čakám ťa, ďakám ťa, čakám ťa Čakám ťa, čakám ťa Dúfaš, že mi to dovolíte Takže... Ja dobrý, EZ vyhra EZ vyhra, no Teď som všetky poryšil, ne? No pre všechne, já jsem zabyl, čtyřenou, teda tohle 4,8 To je něco v konci šno Podopadlalou Arzony Ty kokoci Já jsem si teraz nemožný, že nemám 9 morgenov Udělň, já mám celý možstvo zapojený Teda jdeš Čakaj, čakaj, jestli nalivám, to radí Dúfaš, že... A teď te vidím, jak ti nahé a hrajš s Bohrákem Popravde, som nahý Taký paradox, že som nahý A neboj sa, žalúzy ma zaťahnuté Tak ale Som v trenkách Takže v trenkách, stačí, že som v trenkách Úplne Úplne nahý, až dnes som v trenkách Takže klídech 3,2,1, go Ach jo, vy ste pri PADY, BABY, vy ste strašné Nazdravíčko, pripiam si na vás teraz Zná baví, nič zlom Samozrejme, strašne myslím dobrom Neboj, tak ja som Ale... Ach jo Inak, keď nemáš trenčko, tak si úplne nahratý, som si šimul Práve no Troška, troška sa tu drvali Mám zlomenú ruku, ale Ten komentar Čo Koľkice chcete ísť ku mne, všetci ste u mňa? WTF? Jasne, všetci, všetci ku mňa koďte Ups Videli ste to? Traja, traja ku mne dali Ender Perlu Traja Naozaj, na môj ostrou Hodia, traja Ender Perlu Ale zdalo sa mi to, nebo si umřel? Je to féro? Na môj ostrou hodia traja Ender Perlu Ako mám trochu zabiť bez trenčpoty Ale ako normálne zabijem? Ty mňa búzna jedna Ty mňa búzna jedna Ja som snak vypil, nemajte Yep Baťo, neboj, príde to dnes Idem v WC Brp Brp 30 sekund Ježiš Ježiš 30 sekund Hh, nie som tu 30 sekund Idze ven, idze ven Dedičky, za chvíľočku som tu Zaťal Boraček si Ja som dúfam, že nalej pohárika A prvým jezi Predlocuň BĐŻ 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 O PĐŻ BĐŻ Ufff! Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vieni ciò skiller? Vieni ciò? Vieni ciò. Cioè Jakub? Scusi, skilleri, prendiamo tutto spesso. Skilleri si è stato morto, Jakub. Jakub, tu m***a. Tu si m***a c***a. Tu m***a skiller mi sono andato, e io ho avuto il giallo. No, non è sempre. Skiller ti ha conosciuto? Non è skiller, non è skiller. Questo è il mio Jakub. Questo sembra che sia skiller, ma è il mio Jakub. Nè, che è skiller. Ok, skiller, ok. Ok, ok, ok. Tu è tady, kroma novinia Martina Nicoli. No vidiem, Sony, podívej si, co sa napsala pod tou kamerou. Že máš frajerku Lara, t'a videla Lara. Ako frajerku? Moja frajerka je matt. A my si s Borákom stredáme, chapa, chápete? My si s Borákom stredáme. Mrtvo. Dobro, braku, idzieme. 3,2,1, go. Jo, c***a, braku. Tris, 2,1, go. Go. 3,2,1, go. Ok, buka, buka. Ti piacere? No. No è vero, sono un debil. Ok, mi piace, quando hai traccio, non hai nessuna brazione. Non hai nessuna brazione. Non hai nessuna mano? No è vero, non hai nessuna mano. ok, 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 ok dobra pocchè che tu hai spiegato? chi è? non c'è scala, non c'è scala non c'è scala hop hop ne 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 pi 15 15 15 16 pass qua três identity vysik il un . Non ti ho ricorda, non ti ho vedo, non ti ho vincu... ... ... ... ... ... come questo dopo qualche tempo non ho mai più vera non ho sentito ok non ho volo quando le ho volo non ho volo non ho volo vero che sei Domani sono anche tutti inconglati. Sì. E grazie mille diversi. Alsò in questo messo che ci sono venuti aspettando circa 50 anni. Io non capisco se acquistè. Ma mai capit97 Io ho abbiamo messo per l'remontatore. No è vero, Skyler volevo... Ha ho fatto… Voglio… … … T'cheba si vifotilla web? Ma già streamo. Cosa sono dà… Io sono sas learn… … … … Voi subito? Mi sentiate? Ma che si parl해요. 3… … 3, 2, 1. Allora, pensate ci che chiede? Rai, non ho non ho neplanuovo. 3, 2, 1. Cosa? 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 ÉC T JD D Cosa? 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 5, 6, przyrloci Eokes 3, 2, 3 rau tri 7, reclutá? Cosa? Noi gjorde cose più bello. Tantico. Me dice che penso che mi fredda bene. Ok, allora io sono felice. E cioè, non vabbè? Non, non vabbè. Ah, c'è che ho paio di tutto. Oh.. E adesso non vabbè? He, ho, ho. Sì Tu fuduri pedale sto a che mi vedi, ma non vedi ma. C'è un po' di strillazione. Yes, parada, spadol sono, parada! Rip Ender pedale. Bara, qui? Cosa? Tu sei qui? Dove? Dove? Otoca? Cosa? 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 Cosa, no, cosa! Cosa, 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 cosa! Cosa, cosa! Cosa, cosa, cosa... Cosa, 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 cosa... Cosa, cosa, cosa... Cosa, cosa, cosa! Cosa, 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 cosa! Cosa, cosa! Na zdravie! Na zdravie! Edy čo, idem na najlčších pokémonov... E čo, vertomu, ja keď som hrál pokémony, tak som bol do... 5. rána, ja som hľadal pokémon do 5. rána každý dien. A behal som vo celom Slovensku a Nemesku. Non si ci spettavano, non si puoi. 3,2,4,4,4. Certo, non è 4 ma, non è 3. Ti sulla su Vorakó? Espa qui è stato già detto, vi spegniamo di solo. Vorremmo i ci si fanno con un giallo, l'inforo mi hanno visto anche solo. Alla prima cosa ci saranno, non ci si vanno. Per me non ho come povele. Non ho l'anculo, poco più tempo. Non ho l'anculo. Non ho l'anculo. Non c'è anche un veldo pescato. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito. Sono morto. Procicero. Mamma, 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 nechai, damy ne skiller, poi 1v1. Jo, ok, ok. Tommi abbiamo ender per le. opps Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ... ... ... ... E', si mi dice. Sì, il maestro di salut il suo sciccio è una sciccio del ragazzani il sono un pericolo del ragazzini ma d il cui ho mi avevo削o in più mi avevo un poverso ma c'è un poverso un poverso ma come a voce ti pari come come si stava se lo ha fatto una vicina unico a... da lei ma ti da ma ti ohmai a ma ti ohmo ci ohmai Muoco ma ho fatto ma ho fatto mi è la mia ma non è la perhapsa ma tutto invisi 3 2 1 Cosa, go. Cosa, cosa. 100 c... 150 c... Cosa, non è pekto, ma sono ancora ancora riuscito da quello che mi ha fatto il Borac. Cosa, cosa. Cosa, cosa, cosa. Cosa, cosa, cosa. assahi eh siancius C'è 주 5 Un pocino. Morty, tu ti chiede mi like? Odber? Morty, teba ne dacu. Morty. Morty, banno. Morty non mi nemal sub? Banno. Hoca, hoca. 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 Hoca, hoca, hoca. Hoca, hoca. Morty skončil. Vzdrušený nebo neudrušený? No mi. Ty prestaň. Ty prestaň s takýmito slovy. Ty byl negatívny srdf a sem prišiel. Morty. Si. Si len moja. A len moja. Ty, ty, ty. Daj 5 pazuríky od toho. Rene. 3, 2, 1, go. Zdáme sa všetko v srande matu. Dúfam, že sa neuvráziš preboha. Postančí mi, že sa mi to Gamer urázilo. Postančí mi, že sa mi to Gamer urázilo, že si nechcel som dneska, že som povedal, že dneska budem s Bohorakom spať. A Gamer ma aj odišiel. A bol tu aj kelo. Všetci tu boli proste aj odišli, pretože sa nechceli, aby som spal s Bohorakom. Pápeš tomu? Emičko, ty si, Emičko. Dobre, ty si skočil vo Lóňa. Gratulujem ti. Neviem, čo píšete, ale... Kamu, ste si mŕtri. Díkajte si na veci, jes, 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 jes. NÉ! Oh, oh. Bohaté, jak mi som dal Lól. Ježiš. Jakub si mŕtvý. Jakub si mŕtvý. Jakub si mŕtvý. ČO? Boj s... Čo napísal Marek? Počkaj, prosím ťa sa nevám. Ja strenujem priteknúť. Marek plus. Marek plus. Marek plus. Marek klamo, ale ja ťa vítam na sramičku. Ale prosím ťa nie sramo. Ale víš, to ja toto môžu jebať. Na rážky vživ jedna začiatko. Poď to napiču. Maté. Hýbaj. Hýbaj. Volať. Ty moja tica. Mica. Nefty. Pekne si dal. Pekný komentár. Dneska som ľubovodný, takže dám. Ááá. Ok, odpúsnu kukni a podpor ma. Ešte dneska strašne zilí na nich. Nedostal od strany moderátor. Ok, ste duchovci. Což sem podhádaj, už budú musieť vidíť. Tento stream byl vážne super. Držal sem aj skoro celý stream. Martinko. 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 Proposť. Jo prvne, Veľko? To sem už čítal. Árko, to sem čítal. Ja toho bylo prvno mata. Trvi, dva, jedna. Go. Sì, è un pocino. Sì, è un pocino. Ah, tu non mi sei. Ok, non è un pocino, sono un pocino. Ho... Voi stare? Anche se? Non ho accettare ancora, non ho accettare, non ho capta di fugga. Di una bambina, Mikol si è in spazio, si stava di buono. No ho passi, non ho passate bene, non ho passate bene, non ho passate bene, non ho passate bene. Non ho passate bene, non ho passate bene? No, non ho passate bene, Mikol... Nicolè, poverso un poverso il seno, ci si aveva un poverso di Bologo. Ma ho raccoglato, non ho capito, non ho capito, non sono riusciti, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Ma ti si un poverso, tu hai l'ome, tu hai l'omè, non ho capito, tu hai l'omè, ciao. Voi ci sono? Alla però, aholico, io non mando si vedi a 5000 minuti. Non mi accorgi, non mi accorgi, non mi accorgi. Andiamo a provoci, che mi puoi tepare. Dovronosso l'iasco e vi faccio. Ciao a tutti, ciao a tutti! Martino, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. No, ma possiamo anche cercare di gg. Che c'è questo? では così, possono! Dopo le un concetto, ottime con SG! Non c'è il genere! Ok! insolito 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 tutti e la pinessa bravo cerchiamo! chi è troppo tutto Sì, ho fatto molto molto tempo. Quindi nasce anche l'imp tropa, ieri Dio Dio Dio... se ti ho fatto tutto così... Ecco, non mi senti, non mi senti mai. Non mi senti? No, non mi senti? Dunque, è il nostro cliente che sono piaciuto... Alcina si vydiela come un produratore di portellano No non mi sembrava Ma non è successo Ma il manco è stato visto Ma il manco è stato l'attacco Come sia super Non mi sembrava Ma non mi sembrava di portellano Ma è solo il produratore di portellano Ma non mi sembrava Ma non mi sembrava Che ci sono davanti Grazie in un mio Non lo so, non lo so, non lo so, tutto è medzi sciallancami, credo che si è assiccato. Vico, adesso basta. Ok, bene! Ok, no, ok! Ok, qui? Ok, qui qui... Allora, TH deux di questo, ok! Buculo, adesso da B striminare, quando sta. Quando sta sta da B striminare, da B striminare. Ma chi mi lobi? Noi, no rulla, lobi 5, lobi 5. Non ogni volta la chiamata, non è importante che venguasso di passato, non lo ho comando più. Cosa come il caggo. Sono via via via? Non ancora non. Non, non ancora via 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 via. Na fine mi trusque solo non ho l'ho già già choupo. No vedi. Perchè si parla con Boracca? Certo. No, ma non c'è nessuno. Certo. Go, go! Selfie! Tutti! 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 Non c'è nessuno. No, ma non c'è nessuno. Kuni, kuni. Ja som jediná holka. Som jediná holka. No, no to už každe je ví. Som jediná holka. Fuu, taký gaming, všetci, všetci do mňa. No, na zdravíčko, trid 2, na zdravíčko. F*** il game bang F*** il game bang F*** Pani Diorari, perché tu hai un altro chlapso? F*** Ahio, ahio, è stato così, pericoloso. Ok, pomme stai, neviem Non mi si... Ah, cosa mi si stai, cosa è stato spolocale? Bad Wars Cosa mi ha fatto, non mi si è Bad Wars una volta che fosse 6.7 il me si che tosi in first 7.7 ok, seibay sono vi ai baş? sì sì lol siamo vi ai baş. dico non c'è solo la lobby di tempo solo siamo vi ai baş. No, no. Io sono qui a lei di dir такое Sono qui a me pospedono Ok, io sono i viettili, sono i cioti, sono la fine, perci, perci, perci Fragger Ah, quel che fosse fosse per l'ottore stagione, un commentativo Ha, mi volevi non voler schermare Quindi mi senti, guardami quello che è. Ovvero ti senti, perché sono molto legati a sono slovato. Ma di tutti i sono più di piacere di acqua. Un pochino che si fa una grande litra di vino, ma i slovaci, sono molto troppo meri di palenchi. Non so, non voglio l'acere non c'è nessuno, ma... Io mi senti a le bisogni da le differenze. a dopo un pochino di spettacolo. ... 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 Non c'è un senso che tu non mi piaceva, non ho detto che tu mi ha fatto il seno. Non c'è un seno che tu non è l'ha di rata. Non c'è un seno che tu non mi piaceva. Siamo Skype o Ondri. Siamo Skype o Skype. Non c'è un seno. Non c'è un seno che tu non ho senti. Un seno che c'è un seno. Eppure 2 min. Sfixi, 123 per il dalle di Sony, ok, grazie, grazie a te, grazie. Sfixi, però non penso che sia spesso, dovessi chiedermi la mia cazzetta. Il buono, il buono. C'è un'azdravi, 3, 2, 1, salut. skype macchia uscita mi ha creato pisciano se ciasi tu 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 basta go 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 No, 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 c'è qui c'è qui a c'è qui provera Il telefono ha fatto tutto? Loll, il modello mi ha dato anche a due hiti Hei? Uggiunghi, uggiunghi! , 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 Non vedi perché ho restato. Vedi. Va bene, vedi. Ok, sono in modo. No, troppo. No, 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 no. Non, troppo. Furt, non so, non so. Non so, non so, non so. bello stessi bello stessi bello stessi e molto stessi e cosa vuoi dire? dai snipe per me per me sei o piacere per me per me per me per me essai ,Masci Prà, ora il paio si ce cha che vi metto 15 volte ..Quanto è il的ono Call of Duty Lola è il colore Allora è lola Ci sono degli lettori ... 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 che si è troppo romantico e smutile. Mi piaccia davvero le mie, non ho chiesto di questo, non ho capito. Chi è chiede di a te soffro, non ho capito di a te soffro, non ho capito di a te soffro, non ho capito di a te soffro. Sì! What the fuck no back? Hei Sony! Rekmi Horakovi a ci si traccia da tono l'idea, perché è snusso che si traccia da tono. Horaku? No. Ma ci si traccia da tono? Cosa faccia? 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 Cosa? Cosa? Cosa faccia? Cosa faccia buona? Cosa ce se nelazpie? fla aan Sì Mange patience Cosa ce ? Cosa Wow Cosa Sì 거지 neh I'aztavia, il problema è meglio. Non, ma sono. Ma sono, mi chiamé queste droghe. Hai visto la banca? E le droghe? E le droghe? No, non, 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 non. Dora! Vora, vora! Vora, vora! Vora, che vora! Vora! Allora, ho capito. Laro, ho capito. Allora, ho capito. Allora, ho capito. Allora, ho capito. Come si trovi a te si trovi a ti trovi a te trovi. Allora. Allora, non sono molto buona. Ma 45piliche di, non? . 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 Diciamo i tu? si non sei veramente il bambino? Ed bambino? Mi piace il bambino! Unono. Non si è stato un primo, perché ci sono in pazienza appoggiando. E tutto ciò che si sociali. Non mi ha fatto il mio! Non si sognio! Mi sai anche a me! Poi il mio nome di cibo Tutto dolore Amore Cibo è un nuovo thing Cibo Sniper è Non c'è ovunque... Sniper è in boho. Ježiš. Boha. Se musel spadnout. I'm a dig 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 dig. Uuuu. Čo ty na tom? Záme zátra odobeda takyto... Ale po zase odobeda. Dneska si mě neodobeda. Jakoby ty kurvena. Mrdko. Chodopiče. Boha kuici, to máš. Já jsem tady. Je. No ale ty niži máš. Nemám, no tak ale když pořád uvinám. Co to máš? Ho díky. Jo. Aspoň, môžeš si tady zobrať, to neviem čo. Všetko. Všetko si mě nežde baj. Všetko ani zároveň. No čo Liške, dá mi neska tých 100k subside? Tak počkej počkej, ja nalošu kejmenové. Teď to sdílné. Počkej vidrš, jo? NUNASIKWI! Ahoj! Grazie per te, piacere! Vita a te da! Vita a te da! Vita a te da! Non spammi! Grazie per te! Non spammi! Vi con la tua prima risposta! Grazie per te! Hei Sony! Help! Help me! Morroco! Sì, gioco mi! Aggiore che ho fatte, sto per la look. Oh! No, tu sei un bravo, tu sei un bravo. Tu sei un bravo! Tu sei un bravo, tu sei un bravo... ...e tu sei un bravo, non è un bravo... ...e tu sei un bravo... ...e tu sei un bravo. Tu sei un bravo... Dio è un bravo... ...e tu sei un bravo a mi la faccio più meglio di più nello PVP. è stato molto bravo Sony ma che stia in teoria non l'ho guarda 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno che mi sembrava di nulla. Ma due o cosa ma. Asi è un. E' un. E' un. Cosa che avete? No. Più. Più. Oggi. 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 Accordi. Si, se rinca. S'è alti, toma. S'è alti, il che mi sembrava di. Maverò di, il che si c'è di. Mi sono tornato. S'è alti, il che il nostro lovo di. E' un. A' un. E' un. T'åi. E' un. Chè di, non c'è di, non c'è di... E' un. No, non c'è di, non c'è di, non. Rapporti da' un. Sei un parchant? Hashtag borakparchant Io ho sentito dopo te non posso WTF? Si sono un mio figlio? Sice ti sono anche dei miei Poi anche? Poi? 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 Perfetto Poi? Poi? Buongiorno Noc Si, non vuoi Va bene La storia Poi? Zato No, non, poi cerco irgendwie tu? C'è il caso d'Italia, non. Non, non non… In un caso d'Italia, d'Italia. C'è il caso che govòto engineered per the past valore In un caso... Non, non, non… Ok, non, non trucco. Perchè il caso di te stesso… Sì, sì… Oggi. Cosa non è vero, è vero. No proprio. Kokutoni, i abbiamo ucciato. E tu non mi piace. E mi scrive anche il mio nome, il tuo kokutoni. E tu si scrive un nome. E io ho detto che non mi piace. Ma che mi piace, ma la sua direzione. Ma la sua direzione è stata fatta. Ma la sua direzione è fatta. Ticco ticco, ma la sua direzione. 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 Quien ti beli? Che lei sia bella! Non, queste fils ha perduto! Si tu èба. whoever went all the fuck! Mi換ono Ventile Alla, oggi è stato il giusto. Cosa? Pagni mi il giusto! Spi... Spi... Ah, no... Cosa è il modto. Igo da simple. Cosa è il giusto? Cosa è il giusto? Igo da... Cosa è il giusto. Cosa è una loma. Cosa è una loma. Il ragazzo di qua! Ma cammino... Cosa! 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 Non ho saputo, ma non ho saputo. Ok, bene. Tu non ho saputo, ma tu non ho saputo. Ma lo saputo. Ma lo saputo. WTF? Modri, modri, modri. Modri? Modri, ma non ho saputo. Stena. Non c'è chi stavisce. Ja. Non si chiede? Eh, ok. Cosa, non si chiede? Cosa? WTF? Si si è arrivato? No sì, ma che sia. Non si è arrivato prima, non? WTF? Si è arrivato prima buggerla, no? Ma che è arrivato? Due volte? Ehm, che bello, cominciamo. Matè, sei così. E' vero, cominciamo, è vero che vi metti per la nostra! Nocci, sei una tua tua. Tu sei così... Ma non posso essere così come più in mano? Tieni, non ti sei capace, cosa così. Tu mi piace morirà la sua carruzione. Hai, 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 mi piace. Non, non. Ok, sono qui. Uggi, sei una tua lama. Mamma Grazie a tutti. Sì, non c'è la prima volta. Touche dieci. No, no uffno. No, no, no i uffno. Si sono un aiuto male. Tu sono qui un bel geccio. Non si vuoi unELLO. Ci sono una piccola. Io cerco anche adesso. Ok, non... Ma ti potrò farlo? Sono, non ci ci spaviamo. Partyhard, Nico, tu... 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 Tu è una bati. Tu freddo stai solo Partyhard, perché tu non sono, ma sono Partyhard non, non c'è... Non so, non so, non so, non so... Non so, non so, non so, non so, non so... Hai bai, hai bai, hai bai, hai bai... Hai bai, hai bai... Hai bai, hai bai... Ah, ho di a... world a ai la loro proprio tutto si chiamati ... ... ... ... ... ... ... That's it, c'è... No c'è... Nonatisti nonatisti Caina Ja c'è bene CHILLI BUN issues B Cities No se no LSE 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 me viene da chiudono bello tabolo come testo come testo che solita che No, 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 no. Non ti preoccupi, non ti preoccupi. Non ti preoccupi, perché è il mio primo nome è gamer. Adesso vittorio si stocca, vittorio si stocca, a non ti darò sub. Come, quando ti ho approfitto, ti ho capito. Se tu ho capito, non lo so, non lo so. Non lo so, Come a prendere una grana, stocca supsi. ahio, ahio, ahio che fanno? Db ho meli kamaradchi, due vi to offrenzo in a to econecchina Cio? Settis Matere WTF? Au, 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 au OOO Počkej, počkej, a ešte grumpa, čo ja naštýkej Ty si test prišiel, keď som mal 1 HP? Ďakujem ti Ideme, že ma podporuješ, 1 HP to nás byli nám Inak Prosím ťa, kdo veťa podporoval pořád? Yes, yes, yes Aký máš luk? Ja neviem heč Počkej, bohu level 3 Počkej, bohu level 3 Aj ty? Dobre Hele, hele, pojď jdeme rush na modrý Já mám endrocarbu, pojď jdeme Bo, bo, bo Jej budem strélet, hej? Jej budem strélet Jo Jo Když jsi? Ty my to musíme zadat, jsem za tebou Ty my to musíme dát, jestli to nedáme, tak se rozbroče Jež, to je ona, to je to, to Utěkaj Matilda, Matilda, Matilda Takže To je znamená Jež je to Počkej 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 Non c'è nessuno. Non ci sono, vedete, le spraintras. Doppi! Timco, Timco, ahoh! Sono la luce, autosomia, timo, gamer. Dove è, dove è Timco? Pora eba' nel caso. Si c'è lo''. C'è l'hova? C'è l'hova? C'è l'hova? C'è l'hova? C'è l'hova? Udia può perci? Ci, 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 ci. Can we cerci? No è ilasco? No c'è l'hova? Gli, ovvi. Alla è bella. Chcemano si gioca, buton' di. Non lo sopacare di più! Non possiamo aspettare! Lai che nessuno da cucinaggio che non so che non so molto tempo se ne so ne riduce la cosa che c'è Ciò che ti è grande Ciò che ci ha detto Ciò che ci ha detto Ciò che ci c'è Ciò che ci c'è Ciò che ci c'è Ciò che ci ha detto Cosa ciò che ci c'è Oggi a poco. Tu non la game team. Ieri che nella game team. Perché nella game team la survival game è meglio. Ma è per Skywars? Ciccio? Ciccio? Skywars! Vediamo la cinze di più. Voi ci sono? Sì, come andiamo a scopo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! No, ovunque sono nel quattro. Poi stia, stia, stia. No, 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 no. Počkaj, počkaj, nikto sa nenahadzuje. Nikto, chápeš? Nikto. Makaj, máš minimálne 30 sekund čas. Počkej, vydržaš, počkaj. Stále, sme 3 a 6, S sa nikto nenahodil. Už som skáčil. S sa stále nikto nenahodil. Dobrý sa zdal. Na zdravie, na zdravie, poda mňa, Sony poda mňa viac nie. Čo viac nie, práve som si jebol ďalší pohádry. A Boruka piješ? Tyba, ja piju pořád, to šmot. Ja neviem, či bejeraku piješ. Cože? Ja som čakal, či si zimieš, že pijem bejerak. On tak, bych chcel, jakoby o tebe mňa nepřekvapí. Čo máš za problém, ty? Bejerak. Cože, stiežuješ si? Co, co, co? Ty, ty, moja detko. Neboj, budeš, budeš. Neboj, budeš. Ach, proto ťa, nech som povedať zbožňujem, ale aj sa, aby si najeba tu buzdnej. To je pohodne, lebo mi sa krutí hlava, ako kdyby som vypil liter vodky a mám 11 rokov. To som ešte nic nepil. Tak to ti verím. Nič nepijem iba vodu bez alkoholu, aby si vedel. To je pohodne, tak to ziskyš času, neboj sa. Je to kruté potom, ver to. Čo je? Čo je? Čo je ty pičovala? Čo je ty pičovala? Ty piča! Matúš, chce sa sem tu nový. Ahoj Matúši, ahoj ahoj. Práve, práve sme dva rozbili. Mali po jednom HP. Jasné, ty si omrel? Jo, ne, ja som vyhral. Ty si teda zlonečko, hej? Hej, je to možné, ja som vyhdoval tebe a zablal som asi jí, no. Pohoda. Matúši, vítajte tu a ty si skočil, lej. Ham, 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 ham. Hamba tvojmu národnu. Ale, dobre, hráme, hráme ďalej. Zdravíte to, že rád Matúši a Čako. Tak sa musím. Dobre, Nerone. Som rád, že si tu bol a vítajte, že to zatráplo na sremečku. A som rád, že si tu bol. Ešte raz, veľké díky, ahoj. Pam, pam, pam. Sonny, tie tvoje hlášky. Nicol. Ani nerieš. Ejde, vetom ani nerieš. Ty kurv. Ja, ja som vidal s tvoje... Sem hacker OP. Dobre, tak vôbec ma nezabil hacker. Ja som ho rozebal, lol. Zdravíte. Zdravíte. Prepívam si. Čekám, čekám na Boráka. Jo, vydržte to, kde tam budú. Boráku? No. Našiel som tvoj pravý skin. Jo, to je super. Skillerko PvP. Skillerko PvP. Skillerko PvP. Si pravý Borák. To je pravý Borák. Skillerko PvP. Ja som ťa našiel, ty kokos. Gde si, gde si, Boráko? Za chvíľku budú vytiť. Jako tu mečko? Ahoj, hoj, zradíte, ale pekne. Ale počkej, lol. Ja som ho zabil, tak potom je tá hra. Ale že jo, lol. Jo, tak. Tak, presne tak. Na čo ľudia hacky ho podamňa majú hacky nejak... Oh, Timko, to je vekom. Chápeš? Niektorí majú proste 12 rokov, a nie pochopia toho. Niekto proste sú vyskúšajú ráci. Som dobrý, som dobrý, najlepší. Poď. Presne tak, na zdravie. Vypil si? Ja som druhej z 5. Ja tretí. Ja tretí. Ale chceš sa iný motel. WTF? Jeď, ja som sklerkom, paráda. No takto som to padol. Ja som z toho pandou, ktorá je taká ptá ptá. Víš Boráko, čo tam ukázal, ešto ty? Čo? Nenu. Teper je zná ptá. To bol ptá do ptána. Na čo potom hackujú? Pretože majú mali penisy, chápeš? Takto má mali penis, tak bude hakovať, chápeš? Jo, tak jasne on nezabije rukou, lol. Prvej, aha ty ptá, lol. Takáho screena, točkej, report, točkej. Jo, nemám vôbec strange po tý on. Super. Vôbec si nemám strange po tý on, ty mrdko jedna posrata. Prepač, prepač, že som tak nesel. Mne se seklo video, tak si dá restart. Tak si dá restart, tak si nastaví video. Na zdravičku. Tohle je streetné video. Takže, Boráko na zdravi. Jo. Zapalím si. Zapalím si. Zapalím si. Zapalím si. Á, Boráko. Pozdávame do očí. Seda, pozdávame do očí. To je skôr taký. Á, na ne mám asi ďalší, nie? No, tak ešte môžem. No, slušne. Ja mám ešte púlku. A ja, ale sprúh je fľaška. Fúja sa, tyči. Nič si. Zetra môžu bude troška trvá stream, keď začne mňa skoršie, pretože, kým sa vyzvraciam, kým sa z toho dá dokopy, tak poďme skoči 3, 2, 1, go. Pa 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 pa. Čo, toto? To vytvoral! Ako je to možné? Proste, to mape, ktoré sú 4v4, to je taká blbosť. Uvedomte sa. Kto chce hrať mapu 4v4? To je táto má pičoina. Nikoho nezajímava mapa 4v4. Už to pochopte konečno. Jasné, poďte se mno. no 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 oh no predstav si že zabil som dvoch hej z čoštyroch už je poslední dva ježite a postavím si cestičku do stredu hej a nechám dva bloky aby si mohol skočiť hej zredá sa skočí pohode hej z bloku aj no veš si predstav hej no no a keď a keď skočí tak ja mi si tým postavím dva bloky dohora vieš takže nebohol skočiť o mal ful i bavu ja som mal iba bloky haha tak čo vedeme ačkaj to vieš aké to bolo vtipkne kámenke to keď vidíš tak by si odpadl nekvajdo je 3 2 1 go a ja ma optifine to nie nejako jesne jesne dobre pohode pohode ja mi dobre radšej nič nepíšem bukakino hej 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 zdravíte to vieš mi bukakino h rebels h powers ale celo zb statement len b bokake jo bokake ja ne lebo nechcem byť na to zavisní moja kamarát je chraba boli things ja hráj dot eeee ja Clarins oloku je panetق počkej je to moj náš joo lol je srad Jadi... Ciò! Di segno! Ciò! Ciò che ci sono tue cose... Ciò che ciò che si bella molto bene! Aho, 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 Di peggio! Il fu 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 fu! È stato bellissimo! Ho un amico! Io se lo soppi! Ciò che è così un nemico! Cosa è un'altro. Non credo che così può essere normale, non è normale. Mà rad�ne l'hile, ma rad�ne l'hile. E ora ci sono ancora la cosa, proprio. E ora, il dolore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.